oh eccoci qui eccoci qui buonasera belli buonasera momento che cambia un più la luce così no è più bella no verde non ci piace ma lasciamo la blu buonasera belli come state benvenuti in taverna benvenuti live che mi raccontate buonasera nico bellissima come stai vedo anche aiuto e bello come stai e anche i nostri silenziosi un momento che stavo di corsa e c'è un po il fiatone sera bellissimi come state io tutto bene axel tutto bene oggi mi sono mangiato anche il mecca ho fatto il porchettone ed ancora neco ma quindi differenza tra maghi e paradisi schiesero belli panzi allora tu devi darsi una calmata perché per chi non lo sapesse oggi ho condiviso un video meme su dnd in cui facevo essenzialmente la differenza per scherzare tra lo smaitare in nome di dio nella vita vera e lo smaitare in dnd ed era stato preso un po così il video e la nostra carabandi si è messa a discutere in realtà anche pacificatamente perché discutere non è per forza litigare e quindi mi sa che è per quello è solo la regola domanda serie poladini usano magie combattono anche invece un mago è solo magie buonasera giora come sta è bello benvenuto tutto bene solo un dramma a scuola che è successo dobbiamo ammazzare di botte qualcuno dobbiamo ammazzare qualcuno di botte ma per rispondere brevemente perché come al solito si deve giocare stasera la domanda di panzi domanda seria come si ascende davvero a divinità in dnd è un puttanaio perché essenzialmente le vie sono due la scintilla divina creazione sudditi e compagnia e quindi una vera e propria ascensione a divinità oppure ne ammazzi uno e gli fotti il posto spoiler entrambe le vie sono un dito nel culo infinito perché uccidere un dio è praticamente impossibile a meno che questo non sia un rincoglionito totale perché si deve manifestare in forma fisica non in forma divina deve manifestarsi lui in forma vera in true form e tu devi essere anche abbastanza forte da poter uccidere un dio no no mentre quella un po più easy tra virgolettoni è lunga è l'ascensione ergo devi metta a costruire templi in tuo onore devi avere gente che dice si fa un culo gli altri io seguo te quindi di avere gente che ti prega devi fare rituali di ascensione divina devi diventare forte come una madonna devi avere oggetti magici tutto questo in decine e decine e decine di anni sempre sperando che a un certo punto uno dei dei quelli veri quelli che sono veramente degli dei non ti vedono che stai provando da scendere e ti schiacciano sul posto l'unico che non sono esperto nei forgotten realms che c'è quasi riuscito che c'è riuscito ma non me lo ricordo è vecna sappiamo che fine ha fatto vecna ok tanto scusate leggiamo il messaggio di nico c'è il po se trova per tenere un taro con la persona dicendo che quella persona parlava delle sue spalle che ne messa pura più vabbè quindi immagino sia una proprio queen drama che cazzo che che puttanaglio nico va bene io nel dubbio gli avrei pisciato nella torta se proprio vabbè non si fa perdonate no 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 l'unico scenario in cui puoi uccidere un dio è se lavori per un altro di ma neanche ma neanche ma perché aiuta è una come si è andata a creare ho fatto anche un video risposta di dieci minuti parlare di queste cose è un puttanaglio c'è ti devi veramente mettere a parlare di cronistoria bucio de culo non bucio de culo come lo metti in una campagna perché tanto in una campagna ragazzi cioè è la cosa più improponibile del mondo farà scendere uno dei giocatori perché vuol dire che poi se ne dovrà andare se ne dovrà andare fuori dal party cioè non è che un player può essere un dio gli altri stronzi io voglio dargli un occhio nero così va veramente un motivo per piacere di fare tipo il papa no ti spetta un pugno come con la signora dovevi dargli le mannucce le manatine buonasera sans come stai bello ovviamente se il master lo consegna ma tecnicamente c'è giora che c'è proprio una sezione dei vari manuali in cui ti spiegano come farlo ma è un puttanaglio perché in game sono decine di anni cioè perché non è che tu c'hai dieci persone che si mettono a un altar a pregate tu cioè sì o sì ma diventi un dio minore 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 cioè diciamo che la strada all'ascesa è lunga è molto lunga estremamente lunga però questo era il sunto della cosa intanto fatemi aprire tutte cose perché ho sistemato tutti i problemi che ci avevamo avuto la volta scorsa perché ho fatto mi era venuto il mega dubbio come vi ho detto ieri ho fatto un test test sia hardware che software delle ram le ram stanno una crema non sembra neanche che c'hanno dici anni stanno un bijou era il gioco che purtroppo ha fatto dei casini ma li ho risolto li ho risolti decideri un dio per il cazzito e allora o sei un genio oppure il dio che sta uccidendo un incompetente è esatto è proprio quella la cosa perché io quando vi dico che il dio si deve manifestare in forma mortale in true form cioè vuol dire che lui deve essere proprio un goglione per dire ok eliminiamo tutti i vantaggi che poi non è che eliminare tutti i vantaggi che ho però sapete avere il piccolo piccolo eh vantaggio non dico dell'immortalità ma della divinità male non fa cioè trovare un dio che dice sì fammi a cazzotti uno v uno sarebbe un po stupido soprattutto in true form ma fatemi aprire dragon age che stasera si fanno altre cose che tra l'altro alcuni di voi mo laggerà tutto perché sta aprendo dragon age un sacco di voi mi hanno detto mi hanno dato dei consigli per le quest perché mi hanno fatto capire delle cose senza spoilerarmi tipo la quest delirium la quest d'assassinio ma mi è stato detto del tu in questo gioco appunto il roleplay viene gestito in modo molto differente da origins e mi è stato detto del vatti a infilare certe volte anche contro roleplay nelle quest perché molte volte nelle quest ci saranno dei veri e propri riscontri cioè ci sarà il momento tu devi entrare nella quest e una volta che sei attivamente nella quest ti dicono tipo vuoi prendere la via buona cattivo di mezzo quindi probabilmente stasera ci andremo a fare quelle quest soprattutto mi è stato anche detto che da quanto pare non cambia un cazzo per i rapporti con i vari cosi con i vari npc cioè si tirano il più 5 meno 5 ma quelle sono cose che tu qualsiasi roba metti a parte alcune scelte cambieranno il mood di qualcuno quindi ora in dragon age non ci saranno più niente fuori come erba sì perché ha visto la storia che ho fatto l'altro giorno sì o sono riuscito a praticamente che cosa ho fatto ho ampliato ancora di più la memoria che richiede dragon age e quindi adesso ha caricato tutte le texture che deve caricare ok ci arriviamo datemi un momento di un momento quindi ma che poi noi in questo momento io non ci sono arrivato molto di testa ma noi stiamo parlando parlando salmi stiamo giocando il capitolo 1 cioè noi siamo attivamente nella storia quindi vendiamo cioè voglio fare il più possibile in questo primo capitolo perché è l'inizio cioè se qua ci stanno tutti i semini che stiamo piantando e non lo so non lo so giora quello è il simbolo della chiesa poi non so se è il simbolo del creatore ma comunque ogni volta deve laggare tutto se uno al tabba un gioco dio cristo diamo il via alla sigla perché puttene mi piace mi piace Eccoci qui, benvenuto Sar, come stai, bellissimo Bienvenido, bienvenido, un momento che adesso rilagherà tutto Perché sia mai di nuovo Ma sei tu un genere dell'informatico che coglione che a momenti faccia fatica a installare la mode più semplice? No, è che semplicemente l'informatica come qualsiasi cosa che ci è collegata È un dito in culo non perché è difficile, ma perché ci vuole tempo, ci vuole un attimo che ci devi sbattere la testa Voi non avete idea di quanti troubleshooting mi sta facendo avere questo gioco Ma fortunatamente credo che al quinto episodio abbiamo finito Spero Non ci credo neanche io Solera era un merdone, cit Sono contento, Sar Hai visto si aiude, semplice, semplice Pulita, pulita Andiamo Ikzo Ikzo, ah che tra l'altro dall'ultima volta Fatto test qua e lì Mi hanno dato un'altra secondaria Vi ricordate le guardie finte? Hanno light out da dover esterminare Ho capito come sta andando questo gioco essenzialmente ragazzi E quando giriamo, ogni volta che troviamo un nemico con un determinato nome Dobbiamo continuare a killarli a Stecca A Stecca Perchè a un certo punto ti fanno Ecco questa è casa mia Andate lì, radete tutto il suolo con le ruspe Tipo Salvini Si Ma il fatto sanse è che non son secondari Cioè quelle del seccare i vari posti di merda Si Però tecnicamente quelle ciccione in cui noi andiamo a parlare Che faremo stasera Sono secondari ma di quelle importanti Ma noi comunque andiamo Dalla volta scorsa Mi pare che sono riuscito a fare un livellino tattico perché quelle cose, raga, io pensavo di volervele portare tutte ma andare in giro per la città a fare infiniti scontri tipo 20 minuti 30 minuti di scontri, ve li risparmio cioè perché è quello che abbiamo visto fin dalle prime live, poi se cambierà, ok ho craftato un sacco di bombe un sacco di veleni, ho fatto anche mi pare l'IA dei nostri vari amici, non mia perché io mi controllo da solo però ho fatto l'IA dei nostri vari amici dovrebbe essere molto semplificato facciamo che ci portiamo la nostra cara elfa perché oggi andiamo a fare delle cose andiamo a fare un sacco, tanto a casa ho una lettera leggiamo prima la lettera, che cosa c'è nella lettera oscuro presagio, so che devo ringraziare voi per la ristituzione della lettera perduta dei custodi grigi, ah quella che avevamo dato la volta scorsa, la vostra azione non sarà dimenticata vi prego di accettare la ricompensa qui acclusa insieme alla benedizione dei custodi vi raccomando tuttavia la massima discrezione anonimo va bene ah ma scusa ma quindi è finita sta quest? serio? figuro? quindi io posso usarla la pozione di Avernus pre-pozione 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 non si sa mai raga non si sa mai noi salviamo poi è salvato pre-pozione ok perché cioè io pensavo di doverglielo ridare l'indruio di merda invece no vabbè oh nostra sciucchete più due punti caratteristica aumentiamo la volontà va bene prima si salva poi in caso a fine live scopriamo me la rifaggio tutta brutalmente però vai trunca tutta sta roba pensavo fosse qualcosa di lore però ho capito che Dragon Age 2 almeno per queste cose molto attive è molto più terra terra rispetto a Origin quindi ho capito andiamo andiamo allora qui ci abbiamo un sacco di robe da fare dovrebbe essere nella città inferiore il tizio quindi ci andremo ad infilare in mezzo a ste quest d'assassinio delirium e compagnia mi fiderò di quello che mi hanno detto molti di voi mi fiderò allora che lagata si comunque tra una zona e l'altra laga ah infatti dopo vi faccio vedere anche le texture che abbiamo migliorato no allora per un sacco di cose Sans è meglio di Origin per un sacco di altre e peggio cioè sotto il punto di vista del roleplay vero e proprio per adesso so imparagonabile per l'estetica la fluidità il combattimento tipo tre cose su quattro stanno sopra l'unica pecca è il buttarmi svraga di nemici in bocca perché si essenzialmente ma hanno livellato anche voi due eeeh magia e donna che fastidio uno su volontà e uno su astuzia eh eh che ti do a te ti do esplosione mentale varrik 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 ti aumento un po' i danni del colpo critico no facciamo uno destrezza eeeh due destrezze e un astuzia e ti vorrei cominciare a prendere anche tipo queste skill qua perché queste sono molto utili tipo a canaia è utile perché fa più danni ai bersagli che non lo stanno mirando armistizio di storia attenzione di tutti i nemici intorno a un membro facendoli concentrare sull'alleato che ognuno di essi considera la seconda minaccia più grave del campo di battaglia figata questa prendiamola eeeh lo so giorak però per quei momenti in cui magari ce l'ha tanto in culo è utile per quei momenti in cui ce l'ha parecchio nel culetto è molto utile attiva tutte le cose che devi attivare idem tu leppa leppa pure tu tu già ce l'hai attive eh vabbè guarda il lato positivo Sans magari un giorno ti puoi comprare tutta la madonna e te lo squagli non so per allora quanto potrai non esserti spoilerato la roba ma dettagli Anso ciao infatti ho capito perchè hanno messo queste varie tipo modi per accettarlo perchè lo sanno anche loro perchè ci penso e io e tipo ok ti do una mano perchè sei volentorioso spero ne valga la pena è un sì ma te dico vabbè o faccio perchè pesa i soldi cioè vedete Avelin lo so che scorni però vedi perchè la volta scorsa Varric mi ha dato il meno 5 cioè gli ho detto guarda vediamo no meno 5 però quando l'ho accettato mi ha detto subito de si e non lo so che cos'è quell'altra freccia che è spawnata adesso sorella petris come sorella petris il lupo e le pecorelle smarrite ma petris non è quella che ha scritto i i codex io vorrei portarlo tears of the kingdom proprio vorrei giocarmi prima il primo ciao zia ma tu sei scema ma questo è stupro one on one ma zia ma scusa ma te da piccola che ti dicevano prendi le caramelle dagli sconosciuti ti facevano tutto al contrario se ci sta un furgone aperto facci dentro cioè vabbè che probabilmente essendo una sorella della chiesa mo per chi non sa le sorelle della chiesa hanno i cortelli dietro la schiena pronti per raccoltellarvi sono tipo degli assassini cioè incredibile ok però finalmente un altro scontro buonasera Arlok come stai bellissimo benvenuto ok gente da ammazzolare oh questi sono diversi eh se potessi leggere il loro nome non mi piacciono le interruzioni non quando il bersaglio è così promettente uscideteli allora vediamo questa nuova intelligenza artificiale come se la cava allora fatemi usare un attimo lei se io tipo faccio questa cosa che è quella che abbiamo bloccato l'olta scorsa lei a ogni persona che l'attacca gli fa danni figata figata resisti Aveline guarda pure il party ah 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 c'è Maric ha detto guarda puttana ma posso dire mannaggia ad andraste sto a dire ho sciottato tutto il party tutto porca puttana porca troia ho seccato il party ma scusa ma tu qua giù perché sti ho fatto un divendi su tutti tutti vendinati ah 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 che belle le build che escono fuori bene che belle cazzo sono proprio belle ragazzi sono proprio proprio belle ah va bene perdonate sto piangendo allora tu dirai un fulmine ok ci conosciamo nego io sono non a caso un distruttore bello non gliene frega un cazzo a Ruka Ruka dice guardate io sto per attaccare chi sta in mezzo sta in mezzo sono un cazzo di vostra fortissimo ci conosciamo io ho scelto ti salvato in un alley e suddenly siamo in business tu sei in lowtown che grande scheme potrei interruttare va ora non così aiuto spero che arrivi ok si ma perché penso sta armatura la star non era calcolata per le macchie di sangue sono abbastanza sicuro o hanno fatto che le armature non si sporcano però quelle del prologo si rompevano tutte si si Ruka ogni parola che fa ogni movimento è un osso che si rompe che schierocchia fortissimo bellissimo bellissimo certo meno per il party dio cristo questo è proprio un barbaro del totem casa abbandonata inganno il loop ok quindi inganno è quello del lirium stra vabbè perché non credo che Meryl esca molto di casa ma dettai penso che facciamo la romance con Meryl però per adesso è quella che più si avvicina a Ruka ci stanno per saltare al collo tutti salve certo Varric non fate rumori troppo forti perché c'era la trappola meno male ci abbiamo il ladron party mortacci mia ok quindi qua dentro è pieno fatevi un attimo indietro voi adesso potete entrare andate un attimo a far culo no Aveline ha detto agge da morì eh sì eh sì che cosa che cosa gli ha usato addosso perché sta tipo stannato ma se lo pietrifico perché pietrificare l'hanno modificato in questo gioco non ti rende più facile ti immobilizza cioè ti paralizza sul posto però ti rende ancora più resistente ai danni fisici credo quindi l'hanno un po bilanciato leggermente oh ma fuori c'è della gente c'era della gente dentro come state tutto bene sembra di sì voi due finiti questi che tanto a quelli ci pensa Ruka devo aumentare la resistenza di Aveline ma comunque voi come state come è andato il vostro giovedì spero che sia andato tutto bene che non ve l'ho chiesto mi sa inizio serata siete assassini di D&D buonasera corvo come stai beccate sta cosa stronz siete assassini di D&D potrebbe essere però mi sa che è tipo un power up aiuto di quelle passive extra io tutto bene tutto bene una classe così bella qui oggi domani ho le provi invalsi in bocca al lupo bello in bocca al lupo dai dai è la madonna eeeh minchia gli assassini pure sono duretti eh sono duretti gli stronzi lì lì varric non le fa il primo boss potevo saltarlo di che cosa di di dragon age su devil within 2 il primo boss chi era aspetta perché non me lo ricordo il primo boss la signora motosega ah beh è vero perché ti ci puoi correre a fanculo cioè puoi andare dritto verso la cosa però si mazzuola tutto gli ho sparato 10 colpi è morto ricordo la live aperta malissima quella roba lì chi siete non siete templari a vedervi così cacciatore del tevinter scusa noi siamo andati a prendere delirium cioè aveva fottuto delirium a dei signori del tevinter l'armatura si per carità figa vorrei capire un po' del perché delle cose che succedono ma dettagli No, no, quella è ancora imbattibile Quella è ancora imbattibile, aiute Forse della prima, dello primo spadone di cazzo Pure, 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 pure Ok Armistizio, caccia Non ci sta nessun mago, giusto? Attiva pure questo Perché così cominci a fare danni a cazzo in giro E vabbè, si continua a menare Ma se io faccio tipo così Porca troia, ho quasi shottato vari Io devo capire, però vedi, questa è una cazzata invece Questa però è una cazzata invece Perché ok che faccio l'attacco C'ho friendly fire, però tu mi devi far capire Dove cazzo Cioè, tipo falce, se io sto indicando qualcuno Fammi apparire davanti un cono quadrato Che mi fa capire chi merda sto attaccando Perché se no è l'inferno Porca Eva Voi spostatevi all'esterno È come con le magie, sì Ho cercato qualche modo per raggiungere a sta cosa Ma non c'è Non c'è Varic, curati e togliti È morta Meryl Come è morta Meryl non si sa Però Dettagli Dettagli Ruka devi tankarti tutto Più o meno Madonna corvo Vabbè ti sei centellinato la roba Eh lo so io me le sto tenendo aiuto Giusto per capire che cazzo Infrigo gli avversari in sta difficoltà Perché sennò da mo che le avrei tolte Infatti Per voi saranno l'orrore Se volete ve le tolgo Se vi danno fastidio ve le tolgo Perché capisco che sono un po' una merda No queste cose sono proprio duri e basta Perché faccio tre danni a sto stronzo Veleno C'è un mago Cristo Dio Eh sì perché quello purtroppo non credo cambia Aiuto Non l'hanno cambiato con la mod Quello è un problema Quello è un grande problema Eh esatto Cioè devo capirla quella cosa Perché se no magari Continua a spammarglina In faccia una roba Ma non cambia niente Ma se io gli faccio colpo possente Sullo stronzo Non posso? No non posso Barry che tu ti devi togliere da qui Devi venire qua E fare questa cosa così Così stanni Tu vieni qua Fai questa roba Eh vabbè Allora Sta cosa che fastidio dei maghi raga Perché sanno che sono fatti di pongo Lo sanno che sono fatti di pongo E quindi gli fanno sta cosa Che loro usano una magia E si rinfilano dentro Cioè questa è proprio È proprio la merda sta cosa Con lo stronzo adesso esce dallo scudo Spamma una magia e ci si rinfila Guardate E invece Vieni qua Minchia Chissà che cazzo Dei acciano sti cosi Ehm Minchia che cazzo di armature che c'hanno Cioè con Ruka fare dieci danni Greve Non ce l'ho fatta stannarlo Se ci si è rinfilato immediatamente Immediatamente Dio Cristo Cercherò magari Potrei crearla pure una mod per gli effetti unici Raga però devo averci del tempo Cioè non credo di avere tutto sto tempo E E sta voglia di mettermi a cambiare Puresti Mettere apposta io Una cosa che non hanno fatto gli sviluppatori Eh L'ultimo nemico è quello Ma calcola corvo che io Su The Within 2 Stavo sempre senza una pallottola Mi davano cinque pallotto E le avevo già sparate Brutalmente Eh sì Tanto questo guardate Se io adesso non lo stanno in qualche modo Sto stronzo ci si rinfila subito Ecco lo sta già rifà Lo stannato Vaffanculo Merda Aveline spostati un attimo Tu bonca forte Bonca fortissimo Eh che cazzo Va bene Va bene mago del The Winter Sarebbe stato bro Ma perché chissà che cacchio gli entra Perché quello mi sembra palesemente Un loop di intelligenza artificiale Cioè c'è qualche cosa che gli triggera sempre quello Ma Ah scusa cucciolina curati No Perché no Pronto soccorso Ma domanda io Nella vostra intelligenza artificiale Ah ma ci sono anche altre Io pensavo fossero solo queste Io posso dirvi Personale Salute Sotto al 25 Usa pozione De radice La mettiamo pure Bella alta Vabbè qua Ecco Senza così che vedevo Sta cura io Insomma no Non ci avevo pensato Salute del gruppo Salute del gruppo addirittura C'è Scusa questo non è personale È personale Salute Sotto al 25 Usa oggetto Cosa di elfa qua Leppa Meryl pure ci ho azzeccato Sì Varric Personale Salute sotto al 25 Usa Questa cosa La mettiamo bella alta No L'ho disattivata Mi sa Forse l'essere massacrato Si è visto davanti Dieci persone Morire Ha detto Aspetta Io mi infilo Nella mia piccola bolle Vaffanculo Buonasera Aereo come stai Bella No secondo me è proprio Un figlio di puttana Ok Ok Potrebbe anche essere Un pronto soccorso Vabbè Torniamo Però madonna Dei cacciatori Del Tevinter Così Una cutscene Addirittura Why Questa è una situazione Non capirà nessuno Non capirà nessuno Ma sono tatuaggi Delirium Buonasera Comunque giumino Come stai bello Benvenuto Ah ok Cioè Perché Lo stronzo In realtà Gli serviva Una distrazione Cioè Non era perché C'era il Lirium Gli serviva qualcuno Che gli distraesse I cacciatori Del Tevinter Perché i cacciatori Del Tevinter Stavano cacciando Sto elfo qua Madonna Di Cristo Che cazzo Di Giro Cercavano Te Anzi no Non è stato Un problema Che bello Spadoni Ma tranquilli Tranquilli Anzi Non vi preoccupate Impegnatevi Superrate Gli anni Così ve ne andate Da quelle scuole Sono Credo Tatuaggi Delirium Aiute Io non sono Un maschio Corvo Quindi penso Che si bomba Normalmente Però appunto Non vi preoccupate Queste cose Prendetevi tutto Il tempo Che lo capisco Sono Mi sa Tatuaggi Di Lirium Perché Bianco Se poi Era uno schiavo Del Tevinter Di un magister Del Tevinter Hanno detto Questo era Tipo uno schiavo Sotto al suo controllo E l'ha infuso Con l'Irim Quindi è up Raga Mo perché Ragazzi Le tecnologie Non lo permettevano L'ha impallato Con un pugno L'ha trapassato Con un pugno Sto Cristo Sei uno schiavo Fuggito Che domanda Del cazzo Perché affrontarli Ora è tutto chiaro Cosa pensavi Contenesse Cosa pensavi Contenesse Posso richiedergli Cioè Sta cosa È un bug O posso O me cambia Discorso Ok Uguale No 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 Non lo ammazziamo Povero Povero Mi sembra figo Notate la differenza Fra volto e armature Nei primi piani Che cosa è successo Che non ho le poppe Si sta continuando Giuminio Si sta continuando Lunedì Mercoledì E venerdì Ci facciamo il completismo Ci stiamo facendo Le prime run Speedan E compagnia Eeeh Putevi chiedermelo Non c'è Luca dice vediamo dove cazzo Fammi strada vai Col culo Eh Ma lo sapete qual è il fatto? E' che se una persona gioca di roleplay Perché questo sicuramente è un Membro del party Se uno qua gioca di roleplay e non gliene frega Un cazzo di aiutare il nano Non incontra mai ferris O ferrir o come cazzo si chiama Cioè se io mo Non mi ero un attimo buttato Ho detto vabbè vediamo dove andare a parare Di che cosa sans Che cosa mi son perso andiamo Ma perché sono nei panni di Meryl Andiamo Andiamo dalla signorina Della chiesa Però figa Mi piace la regina delle ca- La regina? La regina delle cutscene Comunque il 123 Mi gli dà fastidio Dragon Age 2 Il messaggio sopra si capisce Si ammassa l'efo e si prende la spada No ho detto non si fa Bisogna risparmiare Ce la guadagniamo Cazzo voi Questo sembra Mi ricorda Venite al punto Perchè? Ok lui vuole portare fuori un mago kunare Perchè noi abbiamo letto di Lorne Codex Che Cioè i maghi All'interno del popolo kunari Vengono trattati ancora peggio De come vengono trattati Di noi Cioè c'hanno tutte le catene addosso La visiera Vengono un sacco appesantiti Proprio perchè voi immaginatevi Che il kunari Comunque Almeno Non è Vabbè Il kunari Diciamo così Cioè proprio fisicamente Già è una bestia di satan Voi immaginatevi letteralmente Un kunari Che sa usavurà magia Che cazzo di toro E' come se Ruga Domani fa Biglasso mago Brutalmente Ma comunque Eeeeh Indaghiamo Perchè proteggerlo in segreto Perchè proteggerlo in segreto Perchè non usare Chantri Ressources La mia ordine Rialisca che il kunari È più di un test Di fede È un obiettivo Ma per ora Devo agire Suo mio Soprattutto A aiutare Questo mage Vedrà che il kunari Non può essere ignorato Il suo volto È vital Ok Niente che i maghi Vengono trattati ancora più Che i pezzi al culo Nella cultura kunari Da noi Maghi umani Nella nostra cultura Ok Si schifo Però non così così Dai kunari Proprio a pizze Sui denti Io ho mangiato Il mcdonald Perchè sono Un porcellone Eeeh Dove andrà Ridotto così Noi Facciamo ciò che possiamo Per andare Inizare Inizare Buonanotte Sans che è sempre stato con noi ma a mani basse aiuta a mani basse ho notato un altro dettaglio C'ha la bocca cucita Gli hanno cucito la bocca Ma ho capito Dio Cristo Ma manco a fa così Ma siete dei pezzi di merda posso parlarci Eh non può parlare Buonanotte anche a te Giumino in caso vai Gli pesava così il culo ragazzi che hanno rifatto c'è per la stanza qui Questa è casa nostra È casa nostra Senza niente Di qua ci sono i letti Eh sì Ah ok ok Ah sì il lago è tutto storciato da una parte Storciato nuovo termine Va bene Sir Varmel c'è qualcosa di Eh vabbè che tu non sei proprio templare 101 mortacci tua Va bene Aiutiamola a fuggire anche se servirà soltanto a mettere più ansia tra Oh ma tu combatti O no Alla nostra corvo Cosa c'è là dietro? Ah velin sei curioso del cunare? Ah vabbè ragni Dovrei inventare nuove parole Ogni tanto urlo qualche roba Non so se può essere calcolata Addirittura le trappole ci sono Chi cazzo è che mi ha tirato una palla di fuoco sui denti? Ah mi sa che era la trappola Ok Ma guarda piuttosto la morte Piuttosto faccio guardate Fate diventare campione qualcun altro Io non ne voglio sapere niente dei ragni Che tanto c'era un tempo in cui il mio In cui un mio vicino aveva una tarantola come pettino Bestie sadaniche Bestie sadaniche Tutte quante Ero molto più contento di un mio amico che veniva dall'Inghilterra Che aveva un pitone per caso Quello era molto meglio Eh ho capito Fatti da damantio questi ragni Fatti da damantio Fatti da damantio Nel gioco Wolfenstein tu puoi giocare nella parte dei cattivi Se è così è una figata assurda Porca puttana Che cazzo è successo? Era una trappola Era una trappola Porca troia Che infarto È una figata assurda Se si può giocare nella campagna da cattivi È come L'ultimo gioco che mi ricordo in cui puoi farlo Era la battaglia per la terra di mezzo In cui potevi giocare nei panni dei cattivi E conquistare tutta la terra di mezzo No 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 Guarda i ragni Possono stare dove vogliono per me Corvo Possono stare dove vogliono i ragni Da parte degli americani Ah ok È cambiata Ok Io pensavo fosse vera Invece Era più per il meme Beh quanti ragni Dio Cristo Dio Cristina Allora Dobbiamo fare qualcosa di un attimo Allora tu vai di là Tra l'altro ho scoperto Che c'è una piccola porcata ex Che quando stai sotto al 10% della vita Il personaggio comincia a sanguinare Fino a quando non muore Se non lo curi Pur par l'è Anzi attiva questo Poi attiva questo Tattico là Sì ma perché questi dovrebbero stare qua Solitamente i ragni stanno in ambienti dove ci sta tanta magia Forse è perché ci sta il nostro caro come ti chiami Non me lo ricordo Qua è pieno di trappole Barrick Disattiva la Mid fight Sono zecca alla fallout Non conosco fallout Io ogni volta dico questa cosa Mi immagino le persone dall'altra parte dello schermo Che bestemmiano fortissimo Urlano No fatevi i cazzi vostri E venite qua Fatta per cazzi vostra Le Minchia Mi Eh devo capire Vabbè questi saranno deboli al fuoco giustamente Porca troia Che cazzo è successo Ah ma perché c'è Varick Mannaggia chi so io Perché usi sta cosa Ecco che cosa che mi fa danno a random Perché hai freccia a frammentazione Da tirare a random Taci tua Ha tirato una sleppa dietro la testa ad Aveline Che gliel'ha fatta senti fino all'altro giorno Eh lo so Aveline calma Calma non succede niente Eh si è curata con una cosetta Ketojan O Ketokan O Ketoyan O come cazzo si chiama Keto qualcosa Questa tra l'altro è un'altra zona Io utilizza Eh lo so Fateli Se fate dei meme Tra l'altro Ditemelo Taggatemi su Instagram Che vi ripubblico Abbiamo una sezione apposta Abbiamo una sezione apposta Un baule Sicuramente mi spawna un ragno in faccia No Strano Stivali dei caduti Un altro pezzo d'armatura dei caduti Ma io rischio che tanto verrà portato Post Dead Space Molto probabilmente No perché penso Semplicemente che abbia paura O usa la magia Soltanto se glielo dice il Kune Se fa parte di quella roba lì Buonanotte Arlock Ragazzi penso che sia stato con noi bello Dormi bene Ci vediamo domani Chi diavolo è questo Sembra un'armeria ambulante Non mi insulta Kedu Giustà Continua Invece Non c'è È scorsato Non c'è Ma non c'è Niente Ma non c'è Cosa 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 Se Cha La Si E' Niente Cosa Di Mi Sce Pecce Di Chi Non c'è Non c'è Se Di ascolta quello furbo si è incazzato ok join anche lui ci ha baffato col ghiaccio che ci ha fatto no semmai si porta fallout si porta purtroppo una cure la prima volta che si gioca magari qualche mod di overhaul o che aiuto che migliora qua e là però si gioca il più liscio possibile dopo Resident Evil 4 e Dragon Age 2 si va di Dead Space la serie è rapida in dolore perché non durano tanto forse i Bioshock un mischiaticcio con Dead Space ci sarà Diablo è lunga lunga come dico sempre guardate sotto quel riquadro perché lì ben o male stanno quasi in ordine ma neanche tanto va bene ma è strano è stato paralizzato sul posto Meryl che cazzo ti infili in mezzo alla morte vaffanculo Preston Waifu una mod una must mod mi sono da dire non so neanche chi è Preston sappiatelo eh si ci ha baffato le armi con il ghiaccio credo e altra gente da uccidere Aveline inamovibile per favore grazie questa potrebbe essere una tattica è appena nata una tattica ragazzi Aveline con tutta la roba da tank me li attira tutti e posso boncarla la uso come incudine essenzialmente eh sarà molto molto più avanti è probabilmente una one shot Corvo c'è un altro accampamento da salvare che cosa B finiti eeeh che domanda del cazzo non puoi ancora parlare devo tirare un D20 per la percezione si vede lontano un miglio che c'ha dei cazzo di di robettini so che è arto 3 metri non ce vedete però Dio Cristo cos'è che è causato questo scoppio improvviso il fatto che minacciava me eh qualcuno parla fluentemente il ringhiese per favore mi può fare da interprete ahhh siamo alleati che sia chiaro io sono crut effettivamente noi ci stiamo yeah noi ci stiamo pure parlando ma anche se si capisce come lo fa se fa e incazzato se fa dice si e si ragazzi e no cominciamo a fare una stella di rosetta del ringhio anche se questo secondo me e che cos'è a breve schioppa male amuleto decorato domanda qua non c'era nienta no passo montano vimmark ok è stato bello che c'è la roba dell'arishok perché stiamo facendo una quest sua madonna ogni volta che vedo quelle labbra cucite mi fa male talva shot oh che bello è la prima volta che lo vediamo un armato mi ricordano le armature dei damaschiani dalmaschiani bello come dicono dello serabas perché giustamente è semplicemente un oggetto magnifico ecco ne altri ah no non sono talva shot infatti perché c'hanno le pitture addosso questi sono proprio del Kune perché mettete un collare ai vostri maghi potremmo possiamo anche dire di me a far dire a Meryl Meryl è temibile bello che parlano nella loro lingua che cazzo è una verga del potere del controllo dei maghi quindi Bas serabas è tipo un serabas cioè un mago straniero mago dell'altra parte va bene Meryl amicizia più 5 Meryl perché vedi proprio di nuovo perché ti infili dio boeo si infila lei lei dice sì andiamo si ammazza per dio ma Varric Varric ma ti fai i cazzi i tuoi Meryl vattene via io mi madonna quanti cazzo siete sono immuni allo strudimento ma bro li col collare elettrico sì a sto punto le ce ne stanno altri sembra di no che poi Ar quello che cos'è Ar Varad sarà tipo il tenente qualche cosa simile Varric tu devi continuare a tenere fermo quello stronzo lì vado in nire e tiro un'ascia in te sì sì carica proprio brutale bravissimo Varric curati ok questi me li sto tankando tutti io questi me li sto tankando tutti io Varric finisci con lo stronzo lì Meryl dammi una mano con sti bastardi qua no ma sono immuni pure al fuoco cioè scusi i gunari sono immuni al fulmine e al fuoco ma ho capito ma sono dei è confermato raga possono usare la magia dei demoni e sono immuni agli elementi sono degli umani che si sono mischiati con dei draghi perché se no non si spiega sono degli umani mischiati con dei draghi per forza per forza perché se no non si spiega smash questo si chiama ok finiamo sto cazzo di capitano che tra l'altro non è morto il signorino fortunatamente no però secondo me si ammazza adesso se è così legato al chium potrebbe ammazzarsi ragazzi vediamo se la tattica che ho detto funziona perché lei ha tutta sta roba attiva io tecnicamente se adesso la carico quanto danno gli faccio non così tanto oh e voi non avete idea del fastidio che mi dà questa cosa ragazzi voi non avete idea del fastidio che questa cosa mi dà c'è proprio che spawn a random è una roba che mi infuria aspettiamo tiralo a quello laggiù tanto a avilin comunque si sta facendo a pizze con questo d'anora non si stanno facendo niente perché lei ogni pizza che prende diventa più tank essenzialmente quindi però vabbè questi invece sono arcieri ma sono fatti da damantio sono fatti palesemente da damantio questi stronzi dove vai no 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 avilin un attimo che arriviamo dacci dacci un momento che questi stanno diventando fatti da damantio che tanto ho scoperto pure che la potenza dei nemici scala in base al livello quindi noi possiamo anche over livellare non non succede niente essenzialmente quello lì è morto c'è qualche piccolino lì in mezzo quello lì questo ci penso io ok eeeh avilin resisti madonna raga gli ha fatto ancora meno male oppure potrebbe essere che ci hanno cioè in realtà gli faccio così poco male perché non li acchiappo sono tutti attacchi di striscio perché in questo gioco non c'è il prendere o non prendere cioè lo prendi o lo prendi di striscio che gli fai meno male potrebbero essere tutti attacchi tutti lisci può essere può essere mozzicate frenesia e si va poi vi serve della rigenerazione delle del vigore dell'energia perché porca Eva muori ecco perché sono pure duri perché vengono baffati dal boss beh poi devi capirlo pure da sola che dovevi utilizzare quel pisello che cos'è varrick con un buco nel petto ritorno come chiede è la sabbia della Kuhn vorresti accettare la morte quindi dopo tutto questo ora vuoi morire non vuoi morire voglio vivere con la Kuhn che significa morire e se si sbagliasse a avarad non mi me potrebbe che erano vero la tua morte anche perdono non lo fa vero l'ho parlato l'ho l'ho chiuso è carne in le occhi existenza non è una es è la es l'unica è tale è essere La vita è tua, no? Ma come ti pare? Cosa cosa, Basfaron, ricordi questa giornata. Sì, è matto. è la madonna la madonna talismani di sarebas più 4 velocità di generazione della salute magia del sangue ok sono maghi del sangue sarebas greve ecco perché ci hanno le verghe per controllarli perché sennò se li lasciano a piede libero fanno bordello quindi usano la verga per mettergli tipo il blocchetto no il you don't magia del sangue mana più 0,25 per ogni unità di salute questo in realtà sarebbe per merrill però dettagli codice aggiornato ah leggiamolo questo perché è il suo talismano una forma semplice sul laccio di cuoio la levigatura irregolare non è una trascuratezza dell'artigiano ma piuttosto il risultato del continuo studio da parte di potenti mani ah perché lo lo toccava se lo sfregava tra le mani uno scuro l'uccichio turbina sotto la sua superficie apparentemente solida indice di un nucleo che sembra essere stato ricavato da un pezzo di corno fissando per qualche istante sembra smuovere qualcosa di insolitamente oscuro nella mente di chi lo osserva risvegliando un'emozione familiare e primitiva la brama è impossibile dire se gli sarebas lo usino come rinforzo o come restrizione al momento questo semplicemente esiste perché probabilmente c'ha le corna tagliate fatto con le corna loro tagliate quando gliele tagliano ben tornato star ben tornato lo fanno quando gli tagliano le corna quindi è tipo monito se lo tengono per monito vorrei lì c'è una maceria luttiamo e torniamo bella però bella 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 silverite yes ci sarà anche un fabbro che ci può magari craftare le armi no sarebbe troppo brogan sarebbe leggermente troppo brogan però quanto mi affascina il QN quanto mi affascina e quanto anche al tempo stesso mi dà un fastidio che non avete idea perché è molto molto bello ma è proprio qualcosa di molto che va contro la mia roba proprio il mio modo di essere ok torniamo dalla signorina possiamo andiamo a vedere però bella sta quest bella 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 si vede che sono quelle secondarie fatte bene cioè fatte bene sono le secondarie quelle grosse che non siano porta un oggetto di merda punto a punto b ma andiamo perché mo dovremmo andare da ferris a sterminare il suo vecchio padrone questo è miran ci parliamo dopo no questo è rifugio di petri si comunque tra cambio e cambio zona il 120 fps è proprio implosione per loro con un attacco e non ho letto ma vattene a fanculo tu brutta vacca della chiesa lo sapevi che cazzo stavamo facendo e chi avremmo trovato lo sapevi hai cercato di creare altro scompiglio per far partire la rivoluzione sei proprio stronza voi della chiesa siete proprio stronzi perché lo stanno cercando in tutti i modi un pretesto per scornare che sembra un gioco fatto con i cunari per scornare con i cunari perché i cunari come abbiamo detto molte volte sono a bomba d'oroggeria loro stanno là perché stanno là sono neutrali totali ma se gli viene detto caricate pulite questa zona convertitela loro lo fanno quindi stanno cercando tutti i modi un pretesto per portare la gente a voler far botte con i cunari perché ovviamente se il capo ci dice andiamo subito a marcia è la responsabilità è la sua è infatti che mi aspettavo pure io dalla chiesa proprio stronza cazzo vaccuna niente giochetti con me don't string me along you know that I know whether you believe it or not I wish you no harm that might have been useful for someone but still regrettable a massacre of citizens protecting a slave might have forced the chantry to doubt appeasement to see the cunari for the monsters they are perhaps finding the mage was a rushed opportunity dovrei ammazzarvi non tanto perché arruga in questo momento perché ha vissuto solo per un anno non gliene frega un cazzo c'è i cunari se fanno i cazzi loro c'è sì ci sta della tensione ok ma a lei gli importa che c'è stata lei in mezzo al puttanaio c'è quello che gli fa arrudere le ovaglie quindi dovrei uccidervi la tua guardia la spezzo a meta e me la cago di nuovo un po' come con la chiesa nostra con le crociate ovviamente tra l'altro ricorda molto vi siete fatta una nemica ma io qua davvero perché non mi hai dato la chance di scapocciarla qua varic ha aumentato la rivalità perché varic dice ci servono più appigli collegamenti possibili quindi l'hai sprecato ma no anche a me mi giravano i coglioni perché se andava tutto nel peggiore dei casi eravamo noi che avevamo fatto delle robe brutta stronza va bene andiamo da miran che è l'altra big quest e che è l'altra big quest ciao ho ricevuto la sua lettera ma ancora sto dialogo l'abbiamo sentito sette volte sì sì posso aiutarti io ma fottiti cioè vedete qua per esempio non hanno fatto un movimento i nostri compagni abbiamo detto letteralmente madonna mi abbiamo detto letteralmente uccideremo per soldi chi l'ha fregato un gazz zero proprio che cosa c'era lì ho visto qualcosa che si illuminava ma non è questo il porto vero no sono un rincoglionito dobbiamo salire su dobbiamo salire su ah era l'impiccato siamo forse per finire il primo capitolo effettivamente ragazzi non ci credo neanche io non ci credo nemmeno io dove era il porto di notte no è di giorno va bene questo è un codex gratis cioè è solo legale nel Tevinter lo schiavismo però stanno ovunque va bene si si ovunque la mettono la chiesa deve essere viscida eh gli sta un gazz da fare ovunque la mettono deve essere viscida se no non gli va bene ciao Gustav feritelo pure ma lasciatelo in vita scopriremo chi ha mandato questo topo di fogne in un modo o nell'altro oh scusa Varric pardon Varric non volevo cioè più o meno trattato sono vestite da finte guardie sono vestite da finte guardie tu ah ma lei si avvicina perché giustamente c'ha furia degli elven ecco perché si avvicina giustamente eh son volato io via perché ha usato scudata si ok mia un mozzichino tatti che passa la paura e vabbè te che è fatto quel signorino ah no perché mi sa che è resistente al 50% dei danni tutti cioè non è che ce n'ha un totto solo i danni e quelle guardie là dietro esplosione mentale però Varric non ha fatto falli ha successo mi sa che no lo fa lo fa soltanto sugli avversari questo potrebbe mettila qua sta palla di fuoco Varric ce l'hai qualcosa clicca qui fai un bel lancia della cere meno male anche perché c'ha tipo un range così sta cazzo di abilità tu laggiù capitano delle guardie che stai a fa saluto che non posso dire che danni che ti sei presa che danni Varric distogli l'attenzione sulla nostra cara Aveline per favore oh è stato defenestrato ok e vabbè quanta gente deve continuare a venire dio madonna tocciappate sta granata stronzo buona doccia giù meno pozionecina tu sbotta di scudo stanna quelli eh ruca eh mi arriva sulle scale il combattimento è un po' broken letteralmente Varric che è cioè sei stato stordito minchia gli arcieri quanti danni perché giustamente se sono arcieri sono di classe ladro quindi sono fatti per fare danni sono fatti per fare una quantità di danni inverosimile io sono un guerriero e faccio altrettanto ma quella guardia sta continuando a fare ya vabbè a cazzo forse perché li sta powerappando eh vabbè si è pure curato pezzo di cornuto tu c'hai disattiva sta roba e vai in full dps bisogna aprirgli il culo a sto stronzo sicchia duretto duretto hawk hawk ho visto tu con miran prima mi ha sentito mi ha sentito il guardia harriman ha matato tutti i miei ucciditi ho pensato gli ucciditi ma mi ha trovato Io lo direi tu stesso. E' lui. E' il Lord Harriman. La maggior parte dei miei inimigli non potrebbero essere così lunga. Stai lavorando per Conrad Thule? Potremmo Lady Reinhardt? Cosa hai fatto che tantissime persone vogliono te morti? Tu sound fareldon. Many in the city are. So you should know I'm the one who convinced the Viscount to send aid to Denonim. Many of my fellow nobleman resent that. They want me dead before he sends the money so they can reclaim it for Kirkwall. Will you kill me for this? Aaaaaaaahhhhhh... Questo non è un lavoro che potrei completare. Grazie, Ferelden. Quando aprendo chi ti ha sentito, sarò sicuro di lasciarti da nessuna retribuzione. Non voglio essere la persona di dire a Miren che hai fatto questo. Ok, però vedi, questa è una cosa che mi fa incazzare, questa è una cosa che mi fa incazzare, perché il più 10 e il più 15 avrebbero dovuto farlo quando noi avevamo detto no, io non uccido per soldi. Mentre no, tu devi infilarti quasi, non forzatamente, ma più o meno nella quest, fartela e mid quest decidi di fare il buono, il cattivo, una via di mezzo. Però questa è una roba che è proprio... Eeeh... E' un po' così così, perché io non è che posso averci sempre l'assicurazione che quando arrivo a un certo punto loro mi fanno se è buono o se è cattivo. Se io mi vado infilato da qualche parte e poi semplicemente sei stronzo perché sei stronzo... Mi fai girare il cacchio. Però va bene, grazie a tutte quelle persone che su Instagram e compagnia mi hanno detto di... Infilare un pelino di più il piedino nelle quest. Grazie veramente. Dicerie figli ribelle, calma, rimedio... Allora qua ci stanno un sacco di cose fanno, andiamo da figli ribelle perché ci sta un povero elfo che lo se lo devono portare via perché ha fatto vedere un po' di magia. Donna c'ho il naso che sta andando a colabroto. Però bello, ok, stasera ci abbiamo un po' di... un po' di ciccia. La prossima tappa sarà anche alla chiesa perché devo farvi vedere tutte le texture. Avete fatto caso? Non sono spavite le texture a cazzo? Sì sì, perché non solo... Già ora che un tempo tu dovevi essere uno schiavo di merda. Poi pure quando andavi a casa dovevi rischiare di devastarti le tibi e le ginocchia. Così che ti mandavano, ti uccidevano perché non eri più utile. Un posto veramente fantastico. Veramente, veramente fantastico. Poi dobbiamo andare anche un attimo a casa di Meryl. Arianni. Vostro figlio è un eretico? Vostro figlio è un satanista per caso? Non potete farcela da sola. Non potete farcela da sola. Ah, perché si è dato. Siete una Dalish davanti a un nano. Siete un nano per caso? Non saprei riconoscere. Cos'è successo? Dove si trova Fen? Vabbè, parlatemi degli incubi. Cos'è successo esattamente? Siete un'altra storia. Siete anni fa che il mio figlio probabilmente aveva un talento magico. Ma non potremmo portare il pensiero di essere fermato nei cittadini. Quindi siamo scoperto. Quando i cittadini iniziarono, Fenriel ancora non ha contattato il cerchio. Ma io... Pure questo indaga è stato un po' inutile. Parlami degli incubi. Magari la nostra cara Merrill sa qualcosa. Vedete quest'indaga? Sono inutili. Perché stai dicendo la cosa che ci ha detto nella prima frase. Cioè ci hai detto a fai gli incubi, mi sono rivolto al circolo. Come ci ha detto nel primo dialogo. Gli abbiamo chiesto... Wey, raccontami tutta la storia. Ha ha! Ha fatto le magie e non l'ho mandato al circolo. Dio maledì... Dov'è? Si, se non si è già trasformato in un abominio. Adesso arrivo e è diventato un blob molliscio de fiamme. Budella come minimo, però... Vabbè, eh... Lo riporterò indietro Feirnir. Feinriel. Questo... Non so dove Fainrael è andata, ma ci sono due paesi dove puoi iniziare la sua scuola. Sir Trask ha stato cercato per lui. Se parlavi con lui nei galli, ti potrà dire quale grado ha già scoperto. E Fainrael's father, Vincento, ha riuscito a ritorno da Antifa. È un mercato nel bazar di Lowtown. Fainrael potrebbe aver scoperto lui. Vincento. Mingga, gli nomi italiani sono proprio la stecca. Vabbè. Ehm... Andrò subito a cercarlo. Minchia... Meryl... E Bethany sono proprio... Parti opposte, eh. Vabbè, perché giustamente è il fatalice che ha vissuto nella libertà dei boschi. Infilarsi dentro la torre, non è che è propriamente il torpo. Ma questo non l'avevamo già a letto. Eh. Scusate, forse perché c'eravamo venuti di notte, no? Quindi è uguale di notte e di giorno. Andiamo un attimo alla capanna di Mary. Vediamo se c'è qualche dialogo nuovo. Uh. Questo è un... Eh, non mi ricordo. Gli specchi quelli elfici. Boh. No! Ci possiamo parlare! Con molta pratica. Bellina che è Meryl... Nostalgia di casa. Attività non necessariamente un male. Io lo intendevo come... Vabbè, almeno così ci hanno tempo di pensare. Stanno sempre... Cioè, vuol dire che fai... Metti in buon uso il tuo tempo. No, così gli eretici possono scappare ai templari. La c... Ho capito. Pure un po' meno. Gesù Cristo. Ma porca puttana. Ma comunque, cioè, ci sono dei momenti in cui quello che sta scritto là è proprio... Un'altra roba. Totalmente. Separata. Mattio Cristo. Andiamo, ma perché mi fai rispondere qua? Ciao Arianni, stiamo andando da vostro... Non mi ricordo. Dal papà e dal templare. Che tra l'altro, anzi, lei è stata pure fortunata perché ha chiesto a sto templare che appunto non è una macchina da guerra. Perché se era un templare normale come quello della signorina di prima, da mo' che aveva caricato a spadate sulle gengive. Da mo' che se l'hanno portato io. Gian, 2201. Che si mira per il fuolo. Benvenuti in taverna. C'è qualcosa di... No, beh, che cacchio ci deve stare di nuovo? Siamo ancora nel primo capitolo. Tu? C'hai qualcosa da di? Vedo che guardi il tubo. Allo? Ah no, è la guardia di prima. Di prima. Della prima... Del primo episodio. Buonasera. Benvenuto per la prima volta anche in chat. Salve, Vincento. Allora, quel che abbiamo capito, Antiva, quelle zone là, dovrebbe essere tipo Spagna-Italia, no? Ma perché l'hanno fatto con il vocione Shad? Così è un po' più che babbaro, l'hanno fatto col vocione basso. Per farlo... Per questo si è innamorata la moglie. Sto cercando Feynriel. Beh. In realtà io sono più interessata in tuo figlio. Mi dama, io sono un barche. Non ho mai riuscito una madre sufficiente belle e cari per travermi in Chento town. E' quello che è meglio che puoi fare con un guardia che ti guarda in fronte. Laura non ha perduto la giornata con così rischiate. Probabilmente potrei mostrare i miei silmi. Ruga ci prova Anzi no È Ruga Non è Malbeth Il vostro silenzio L'usciterà Eh? No 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 Ok Va bene Il nostro caro Vincento È stato utile Come un calcio Nelle palle È servito solo A fare male Perché per il resto Niente Oh ma questa è zona nuova La Sì Non ci siamo mai stati Alla forca Mi pare Oh no Ah no mi sa Che è la zona Di inizio game Perché non ci eravamo Potuti andare Fino ad adesso Eh sì Eh sì Madonna Madonna che bellina Mi piace come Merida È proprio pure Schietta Dicevo guarda Fammi un po' Imparare come fate I turni dei guardia Così Posso sgattaiolare Armature Ilmo Ecco qua forse Ci sta roba Interessante Per potenziare Qualcuno C'è una runa Della vitalità Che in momento Alla rigenerazione Della vita Vabbè compra tutto Ma che Pure questa Sì Bottega delle armi Vendi qualcosa Di interessante Runa del fuoco Runo of aggression Compriamo tutto Si sa mai Per regresso Niente Spadone del templare Ascia da guerra Turbine Che belli Ci sono un sacco Di oggetti extra Qui mi piace un sacco Allora dobbiamo esplorare Perché non so se sono Spawnati codex Nuovi O compagnia Appunto È difficile Risaire le tradizioni Dell'antico Tevinter Ma certamente Kirchol Un tempo Teatro del commercio Degli schiavi Dell'impero Rivesso un ruolo Preponderante Nella sua storia Quale risposta Costudisce Kirchol Perché cercare qui Piuttosto che A Perivantium O a Vaol Dorma Madonna che cazzo L'impero costruisce I propri segreti Gelosamente Se qua anche All'epoca dei magister È ormai Un ricordo sbiadito Ciò non rende Il nostro viaggio Meno pericoloso Ed è proprio Qui al porto Della forca Che rinnoviamo Il nostro giuramento Qualora dovessimo Fallire Cercate i simboli Della banda dei tre Ah questa è un'altra Di quella roba Ok Perché l'abbiamo trovata Pure a casa Del Del visconte Una roba del genere Pure a casa Del visconte Madonna che belle Ste cose esteticamente Salve Templure Kun Tranquilli Tranquilli Infatti grazie a tutti i lur Che micia Tantissimi Grazie Belli Un attimo che ci parlo con lei Che devo andare di qua Fortunatamente le texture Finalmente l'abbiamo fixate Sono contento Lei deve prendere questo Esatto Questa è una delle varie Fetch quest Qui c'è qualcosa È il Borista Formari Porre rimedio Va bene? Ok un altro Un altro crafter Però noi ce l'abbiamo Già quello delle pozioni Che cosa crafti tu? Un cazzo Amore incantato Del circolo Amore Lato della serenità Minchia Queste sono figlie Porca Eva Pozione Distroratrice Riporta in forma Anche i corpi più affaticati Generazione Ah questa minchia Ti fa tutto Compra Compra Pozione curativa Pozione dell'Irium Vabbè queste ce le abbiamo Già noi Magari quanto costano Tutte quelle dell'Irium? Oh Tutte quelle del vigore Oddio altri soldi Che partono Ricetta Pozione Distroratrice Runa della Shadow Va bene Compra questa roba Salve La Zanna di Drago È più cosa di quanto Mi aspettassi Ah ok C'è tutto Quella roba È che noi abbiamo fatto Tutto il completismo Prima di venire da lui Essenzialmente Beni del mago Ok E ne ho decorato Qua Runa antifulmine Runa antifulmine Il motivo Beh compriamo Tutta sta roba Quindi è finita La sua quest Sembra di sì Dovremmo tornare Un attimo In fondo Alla forca Perché non hanno Messo un per due Come su Final Fantasy 12 Che nelle nuove versioni Puoi mettere Letteralmente Ah non ci posso scendere Giù al porto Che cazzarola Madò Madò Che bella Che è Kirk Col cazzarola Se non fosse piena Praticamente di Statue Con la gente Che viene fustigata Che cos'è questo Sir Whitemore Quando accennavamo Accennava un potere superiore A quello dei Templari Non mi riferivo alla chiesa I Templari sono al servizio Degli sacerdoti Questo è vero Ma non è sempre stato così Un tempo l'inquisizione Uuu Si parla fin da qui Dell'inquisizione del 3 Dava la caccia ai radici E cultisti Non solo ai maghi E il suo regno di terrore Terminò soltanto Con la creazione Del circolo dei maghi Gli inquisitori Confluirono Nell'ordine dei Templari Che ancora oggi Nel bene o nel male Sorvegliano i maghi Che rappresentano il braccio armato Della chiesa No ok E' un'inquisizione Un po' Diversa da quella Mi sa Si è stato in accorto Vantaggioso per entrare Delle parti Ma pochi sanno Che la chiesa Crea un secondo ordine Per vigilare sui Templari Quello dei cercatori Ah No è vero I cercatori della verità Sono I cercatori Dio Cristo Come si chiama La waifu Sono quelli di E che mi ricordo Pentagast Quella dell'inizio Come si chiama Di Cassandra È Cassandra Cassandra è un cercatore Lo stesso non ne so molto Ma c'è una cosa Che posso affermare con certezza Servono la divina E sono molto temuti Quando vedono un cercatore Riuscire dall'ombra I Templari Fuggono al riparo Temendo di essere puniti Per qualche loro mancanza I cercatori Indagano con estrema efficacia Sugli abusi Che si verificano All'interno del circolo Riuscendo a catturare Anche gli eredici Particolarmente elusivi Pare siano immuni Al controllo mentale Della magia del sangue In grado di leggere elementi O cancellare la memoria Vabbè queste saranno Storie un po' alzate Ma nutro forti dubbi A tal proposito E questo ci riporta Al mio quesito iniziale Che ha il compito Di controllare Il potere dei Templari Dovrebbe esserla divina Ovviamente Ma quanto può essere Al corrente della loro attività Se la loro stessa esistenza È sconosciuta e più A 880 Era benedetta Di chi è Di un sacerdote ignoto Eh sì La nostra cara Cassandra Ha dato benvenuto Matt come stai bello Eh non lo so Perché io sapevo Che appunto Cassandra Era una cercatrice Faceva parte di sta cosa Però Per il resto Non so Questa prega davanti A bene Al coso della forca E poi Ah ok Era sempre già Di benvenuto Trask Bella come Quest'interazione È stata palesemente Come i cinesi No Che tu Molte persone guardano Tipo Eh beh Lo conoscerai Perché è cinese Ho fatto Non è che se Conosciamo tutti È come se Io veramente Questa è perfetta Parlatemi di Feril Fendriel Porca troia dei nomi Almeno spero Che lui me ne parli Come hai metto Lui? Cosa è? Della descrizione Suona molto come Qualcun ragazzo Che abbiamo portato In un circolo Frightened Suo gift Resentoso Per perdere Sua libertà Convinci Che è la Un'eccezione A nostri le leggi Non è nessuno Che vorresti Il potere Per murdare Le persone Con il mente Vorrei aiutarlo No young boy Should have to Face down Demons alone It is surprising What sympathies Magers evoke I always expect People to be more Wary of their powers Than touched By their struggles If we do not Find Fainriel soon It will not matter Either he will be Taken by the demons Or by less Mystical predators Sì scusi Però che cazzo Di occhi Bellissimi Ha questo templare Ditemelo Subito La guardia Cittadina Potrebbe aiutare Credo che Questa interpelli La nostra Aveline Aveline Non pensate Che questo Concerna La città Si E E Templari Si 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 e lascia il guarda di città fare ciò che stiamo bene, io posso attraverso il ragazzo. C'è un Templar, un former Templar, con il nome di Samson. L'ordine ha lasciato l'ordine a causa delle differenze filosofiche. L'ordine ha stato conosciuto a aiutare i magi a evitare Kirkwall. Se il Baneriel fosse a lui, Samson non mi dirà. L'ordine non mi resta da vista da giorno, ma l'ho vedo alla mattina, vicino all'entranzo a Darktown. Io ho notato che la maggior parte dei personaggi in questo gioco hanno sti Barbie, sempre sto pizzettone bellissimo. Proprio da Chaddone. Anzi no, quello non è da Chad, quello è da Daddy, perché il barbottone così è proprio da Daddy. Va bene, alle città oscure abbiamo talmente tante di quelle quest da fare che voi non avete idea. Quindi, no, andiamo, finiamo la sta quest di Feiril. Conti insospita, ovviamente dobbiamo parlare pure con Miral, Miran, come Gesù si chiama. Che sicuramente ci dirà, eh non aspettavo a te scegliere questa cosa. Spoiler, ho deciso di non ucciderlo. Che tra l'altro Ariman mi ricorda tantissimo un cattivo dei Prince of Persia. Dell'unico Prince of Persia quasi sconosciuto, in cui non potevi tra l'altro neanche morire. Sarà quello figlio perso? Sì, eccolo lì. Lei Team. Ciao Samson. È venuto da te. È venuto da te. Eh. Eh. Visto che a te ti piace tanto fare il caritatevole, ma non. Se morirà tu lo seguirai, lo sai. Se Feinril non è in un pezzo quando lo trovo. Siamo dopo te la prossima. Reiner in, amico. Era solo cercando di fare il padre un buon turno. Il rumore ha detto che Reiner aveva un paio di loro lockati dentro di un caratteristico di Keyes. Qualcosa vicino a Dockside. Vuoi andare a guardare? Potremmo trovare il padre prima di rinforzare gli Templari. O meno. Penso di merda. Buonasera Fatal Commerce. È bello, il mio corgiotto ormai di smeraldo. Questo non mi piace, uccidilo. Eh. Avessi potuto, l'avrei fatto. Avessi potuto, l'avrei fatto. Madonna, viscido come proprio un gazzo di polipo sei tu. Bastardo. Com'è andata il lavoro, bello? Com'è andata? Eh. E tutta... Vabbè. Tutta sta acqua. Figlio ribelle. Al porto. Ah, madonge. Eccoci qui. Quindi altri pirati. Ne abbiamo sterminati a centinaia di pirati. Ormai per queste strade di notte sono pulite. Ci puoi mangiare per terra tra le pote sono pulite. Dopo anni vi dirò il frutto. È vero, già è passata un'altra settimana. Già è passata un'altra settimana. Salve, eh. Voglio soltanto andare nel... Nel porto pirivato di Arturis. Megoglionibus. Dai, dai. Ok. Va bene. Sta roba riutilizzata. Attivate anche le madonnina dell'incoronata. Tu c'hai tutto, Varric. Attiviamo anche il dog. Vai. No? Sì. Un cazzo di ladro. Tocca a vedere. Sì, voi dovete uscire da là però. Dovete uscire da lì. Tu Meri il vatte a infilare lì. Eccolo qua. Mi hai mancato. Godo, pezzo di merda. Guarda cosa non manca. Vabbè, 500 danni. Quel tot di vita gli ho tolto. Tacci, 2. Barric. Fermalo sul posto, per favore. Eliminiamo lo stronzetto. Toh, beccate pure una granata. L'ha bloccato. Madonna, bravissima Mary. Il tirimono più tardi. Tilimono. E mentre eliminiamo i loro campagnucci. Cazzo, c'era una trappola. Eh, sono morto se non mi sbrigo. Allora, il signorino là è morto. Varric, vai a disattivare quella trappola. Mi dispiace, ma la nostra caravere diventa un muro. Più l'ha attaccata e più diventa un muro questa cazzo di donna. Ma tranquillo, tranquillo Ghost. Anzi, i cazzi devono essere passati. Buonanotte, bello. Buonasnece. Lei è morto. No, c'è Varric. Varric, togliti da lì. Ok. E lì? Qua dietro? Ok. Tu vai a dare una mana a Kiri. Tu mettiti un po' in mezzo. Ok. Cioè, siamo cavata bene. Perché comunque adesso ci hanno finalmente, io ho fatto anche un po' di intelligenza artificiale, quindi non devo starli proprio a controllare a tutto, tutto, tutto tondo io. Fortunatamente. Di là c'è qualcosa. Peccato che ci siano così poche zone. Perché è proprio bello di ambientazione il gioco, perdonate. Salve. No, è diventato un abominio. Porca puttana, è impanicata. È diventata un abominio. Bello l'effetto come l'hanno fatto che si rannicchiano per la paura e poi la magia li fa esplodere. Eh sì, è un abominio. Va bene. Va bene. Varric immobilizzalo. Tu fulminalo. Anzi. Malocchio. Bisogna finire. Chi sa in questo gioco gli abomini come sono diventati di potenza. Peccato che è stato già sterminato un assassino. Ma sta animazione, guardatela, è proprio... Io già me lo immagino la persona che l'ha fatta sta animazione. Ha fatto fare un'animazione di camminata e poi ha fatto letteralmente rotation. Ha fatto què sull'altro asse. Brutale proprio. Uuuuh cadavere. Perché hai animato i cadavere perché è giustamente un abominio. Bello. Bella, bella, bella sta cosa. Chi è che si è preso una cortellata? Sei mai attaccato Mirelle? Mh, mh, Mirelle. Meryl ti apro il culo. Fortunatamente è un coglione. Quindi... Si fa questo... Così. Qua ci pensa Ruka. No, ci pensa anche Aveline. Capitano Rainer. Ah, peccato, mi aspettavo qualcosa di un po' più unico. Graficamente. Hai fatto 100 danni al cacchio di cane ma sei un pezzo di merda. Qua ci sono delle trappole. Disattiviamole. Giustamente ha rievocato tutti i morti che abbiamo ucciso dell'A. Bella come cosa. Bella cazzarola. Allora, Meryl, tu ti devi spostare da lì perché se no a breve ti prendi una pizza. Se l'è presa Aveline. Però vabbè, Aveline è più dura, quindi... Ma qua c'è proprio la fiesta. Questa porta la tengo io. Di là? Gambizzatore dei predoni, raffinato. Salassatore. Bello. Per chi non sapesse il salass è tipo che quando ti tolgono il sangue, quindi è tipo una sorta di sanguatore. Lettera di Oliva Trask. Padre. Chi cazzo è Oliva? Ah, ok. Ah, era la figlia di Trask. Povero. So quale sacrificio hai fatto per tenere nascosto il mio segreto ma non sono più una bambina. Non posso lasciarvi portare questo fardello e non voglio che il mio segreto uccida entrambi. Devo vivere la mia vita come donna e come maga. Provo una strana liberazione a scrivere queste parole. Addio padre, spero che un giorno possiate trovare pace tra ciò che vi è stato insegnante e ciò che avete vissuto. Con affetto Olivia. Oddio, ma io non glielo voglio dire a quel povero daddy adesso. Non glielo voglio dire che è morta la figlia. Povera Crista. Mappa per il nascondiglio. Legisti del Capitano Rainer venduti due barilli di pesce, fortezza del Visconte, tre barilli di rum, l'impiccato, un mago umano, Danzing, città sotterranea, sappiamo dov'è, 25 pellicce rivainiane, stoffe di Helton. Andiamo a sterminare tutti. Varric mi servito per disattivare delle cose. Quella non è una trappola? Da tutti da XP disattivare le trappole. Ci serve, siamo ad incubo. Raga, io qualsiasi spicciolo di XP che trovo me lo prendo. Bisogna raccimolare tutto. Vabbè che ripeto, non possiamo overlivellare i mostri perché si adattano a noi. Però, 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 va bene. Voi non mi attaccate? Va bene, bravi. Bravi, 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 bravi. Sarei quasi tentato, più che altro, di magari... Cioè, con questo fatto che loro livellano con noi, nemici, vorrei inserirla una mod per aumentare il level up, no? Per arrivare a quel punto dove i nemici sono dei muri, pure noi, abbiamo un sacco di passive. Però devo vedere come va. Anche per cambiare un po' il gameplay, per non farvi vedere sempre quelle 2-3 skill, noi dobbiamo andare nella città oscura. Eh, vai, qua ci abbiamo 77 quest da dover fare. 77. Dovremmo parlare pure con Anders che io devo capire veramente perché hanno fatto sta cosa. Perché Anders è diventato un custode grigio, estremista elfico. Vabbè. Cioè, potevano fare un sacco di robe. Perché fa proprio una roba del genere che mi fa incazzare? Oh. Ha flirtato? Meryl! Allora, Meryl, tu non sei un cazzo! Tu non sei un cazzo della cultura umana, però flerti! Incredibile! Incredibile! Ma più che altro sai quale ha fatto aiutare? Che... Voi? Delinquente. Va bene, guardate i delinquenti. Guardate i delinquenti. Cioè, avrebbero potuto fare un sacco di cose, no? Cioè, nel senso, se io nella mia timeline... Ok, ce l'ho... Perché da me il fatto che non è che neanche dici... Non è diventato custode grigio. Cioè, è diventato custode grigio, ma sei andato a fanculo. No! Da me proprio... Se è dato Anders! Anders non c'è! Non è... Non ha mai fatto... Il rituale da custode grigio. Quindi io so proprio... De... De what? De che cazzo stiamo a parlare? Avrebbero potuto fare che se non c'erano i requisiti, era un custode grigio mago. O me facevi in personaggio nuovo di... Cristo Dio gli davi le stesse frasi di Anders, in grazia di Dio. Però me lo facevi differente. Perché così hai detto proprio, guarda, raga, non me ne frega un cazzo di quello che avete fatto voi. Essenzialmente. Proprio questo ti dicono. Ti dicono sbatte solo. Mi dispiace, signorina, devo chillare subito il ladro della cerchia. Minchia, ma l'occhio di Meryl? Comunque... Greve, eh. Indebolisce tantissimo. Allora... Perché sto scendendo qua sotto? Non lo so. Allora, abbiamo tre quest. Sopra è Anders. Ah, che tra l'altro la quest si chiama Calma. Come il rituale della calma. Da Lion o da Lian Show. Rimedio a base di rosa canina. E là sotto c'è Danzing o come cacchio si chiama. Andiamo a dare la rosa canina alla signorina qua. Cosa gli serve? Devo... Per l'alito probabilmente. Ma poi cinquanta monete di argento. Proprio t'ho stronzo. Via d'este monete. Bastardo. Allure. Ci attaccherà a vista? Era il baffone dell'altra volta. Era il baffone dell'altra volta. Salve. Ah, ecco per quello vuole. Perché è Der Tevinter, giustamente. Consegnami Fine Rail. Non hai capito che io ti sgozzo sul posto? Ok. Ok. Va bene. Va bene. A questa troia mi hai detto? Mi hai detto a questa troia? Io non so se hai capito che io a te il bastone da mago te lo impianto in culo, signorino. Non so se l'ha ben intesa questa cosa. Che io la scoccio male. Io la devasto nel buco del... non si può dire. Anzi, non lo diciamo, nel buco del culo, fortissimo. Ha mai fatto un pesce da aprire? Non lo so. Che non sia Dark Souls 2, non lo so. Si scherza, ovviamente. Si scherza. Eh, vabbè, spawn altra gente random, ovviamente. Dammi una mano, cucciolina. Anzi, dai, dagli una mano. Dio Cristo non riesca a mirare. Eh... Oh, ho stato intrappolare. Bravissima. Buonasera Liquid, come stai bello? Benvenuto, benvenuto. Come stai bello? Come stai bello? Giustamente un mago del sangue del sciollo. Ma in realtà è uscito qualche leak da non mi ricordo chi che dovrebbero fare un porting pc di Bloodborne. Dovrebbero... È uscito qualche leak? Io ci spero. Ci spero. Veramente con tutto me stesso. Per me Dark Souls 2 è essere un Dark Souls... Ma guarda, io ripeto. A parte il meme e tutto quanto, Dark Souls 2 ce l'ha un paio di cose fighe, interessanti. Peccato che per molte altre frangenti ha preso proprio certe robe e ha detto Ma sti cazzi, famo come ce pare a noi. C'hai detto proprio semplice semplice. Barrick, togliti da lì. Eh, io ci spero sempre. Io ci credo nel leak perché è stato fatto mi pare da un leaker di quelli che fino ad adesso ci ha beccato ma tipo troppe volte su troppe cose. Quindi ci spero. Uh, mago schiavista. Brava Meryl che l'ha capito subito cosa dobbiamo fare. Tu come stai, Aveline? Bevi di una pozione. Eh, devo mettergli pure per beversi la pozione di Illyrium. Perché gli fa comodo. Grazie per il support con le pubblicità. Eh, ce l'avete pure voi Evoz, giustamente. Va bene. Barrick, lì come va? Dove è andato il mago? Ah, sta in mezzo a random. Esplosione mentale questa si chiama. Finisci, anzi no. Spostati. Madonna che puttanaio. Smash! Ok. Sì, sì, toglietemi vita che tanto mi potenziate, merde. Vedete, una volta che entrate nell'ottica di che il gioco è così, pure tutte ste orde diventano molto fighe da gestire. Perché tu lo sai che tanto non sarà quello da lì. Quindi ti tieni un po' di risorse per dopo. E così via. Ruka, mozzicalo un po'. Dai un bacino, dai. Anzi no. Strappagli le vene del collo a sto stronzo. Così ti impara a chiamarti troia. Così dovete reagire, ragazzi. Se qualcuno per strada vi fa... Ah, fantastica! Voi vi girate con la borsetta e gli tirate un cinquittone in faccia. Easy peasy. Risolto. Un attimo ce vuole. Ora. Ruka. Vai qui. Ruka. Smashagli il cazzo di culo. Troia del Ferelden. Vuoi di questo? Perdona. Troppo, 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 troppo. Mappa per la costa ferita. Pugnale superiore con cui fare lo scalpo a dancing. Non siamo in quel periodo storico. Perdonate. Mago ribelle. Va bene. Qua letteralmente vai in posto A. Trovi la mappa per il posto B. Vai nel posto B. Trovi la mappa per il posto C. Qui? Cintura e soldi. No, io non mi sto... Come faccio sempre in realtà per qualsiasi gioco mi sto tenendo la lontana da un sacco di informazioni. Perché non voglio farmi crescere l'hype. Voglio... Arrivarci del... Che cazzo è sta roba, insomma. Ho visto giusto il trailer durante... Che cos'era? I Game Awards. Quindi stiamo a parlare un totto anni fa. E... E basta. Però ripeto, quello lo giocheremo e lo porteremo. Perché... Io come dico sempre non sono molto da... Robottoni... E compagnia. In carico delle erboliste a figli ribelle. Non sono molto da robot. Quelli non sono proprio in quel genere. Però magari potrebbe farmelo anche un attimo risalire. Un'aquila di sangue per... Per il comunista. Gli facciamo tutta la schiena, Jorak. Lo apriamo, Cristo Dio. Se ho capito... Che cosa intendi. Salviamo che da un po'. Perché tanto sicuro come loro in Armored Core ci metteranno un sacco dei souls. Cioè non sarà... Mh... Come magari quelli vecchi. Che... Io presuppongo siano puttanai di... BAM 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 BAM. Quei robottoni... Che semenano. Ce lo metteranno sicuramente molto dei souls. Ma perché ormai è diventata la loro... Una caverna. È diventata... Essenzialmente il loro main. Tuturuturuu. Giustamente gli schiavisti stanno fuori città. Bravi. Una volta tanto. Intelligenti. Figa. Tutta sta gente che ha ucciso in sta live non ho fatto ancora un livello. E' la madonna. Quanto è? Si può sapere? Alte... Eh si. Nel primo capitolo 5.000 punti xp. E dobbiamo cercare il minimo un arte di tre e quattro guarnigioni. Più o meno. Dei cunari. Neanche di umani. Vai, vai. Anche seppure quest'altro c'ho... Anche seppure quest'altro c'ho la paura che possa diventarlo un abominio eh. Oh, un'erba esile. Buono, buono. Queste vanno trovate perché sono importantissimi ragazzi. No, di qua è per andare avanti. Quindi noi andiamo di qua. Si esplora. Salve. Qua? Niente. Ok. Adesso ci faranno un trappolone megagalattico. Chiri. Bello dogghino. Schiavista, schiavista arcera. E' proprio dove abbiamo fatto appizze con i cunari. Proprio dove abbiamo fatto appizze con i cunari. Ruka subito all'attacco. Dove sei tu, signorina? No. Ruka. Smash. Smash 2. No, l'hanno proprio detto? Ok. Allora sono ancora più contento perché voglio roba fresca da casa. Già Eldering è stato... Me coglioni. Voglio anche altra roba. Magari potrebbero farmi appassionare i robottoni eh. Io non mi precludo mai niente raga. Niente. Ci provo sempre fino all'ultimo. Come siamo messi? Un po' una merda. Tu vai lì. Tu dai una mano ai nostri cari signorini. Tu hai appena lanciato quella roba. Tanto Ruka si toglierà dai coglioni. No, perché è morto il tizio che stava attaccando. Ma va bene. Ma va bene. Finite quell'arcia. I gli arcieri comunque sono broken eh. Pure su questo. Sono fortissimi. Fanno un sacco di stun. C'è un mago. Quello è un mago? C'è un mago. C'è un mago. Oh ce l'hanno. Perché. La Bioware lo sa che tu li stompi? Glielo mette. A tutti. A tutti glielo mette sto cazzo di scudo. Esci esci. Esci. Esci stronzo. Esci. Metti l'armatura. Chi cazzo è là sotto? Ah è Varick che sta per morire. Meryl dove cazzo sali? Fatti cazzo tu hai Merl. Dai una mano a Varick che sta prendendo i pizzoni mega galattici. Pure tu. Ma io c'ho controllo. Devo avere possanza. Perché ho controllo? Sarebbe stato diverso dai suoi. Eh ma lo sai perché aiuta? Perché il fatto è che si ritorna a quel discorso che abbiamo fatto molte volte che ha creato il polverone. Del... Del... Non dico squadra vincente non si cambia. Ma... Si torna sempre molto la... Quindi la gente sotto quel punto di vista è diventata un po' scettica. E mi dispiace. Perché From ha comunque un potenziale creativo molto molto buono. Ti sei curato pezzo di merda. Tu spostati qui dietro Meryl. Che mamma deve rompere... Deve rompere uno schiavista. E' rientrata dentro sto scudo di merda. Eh porr caputene. Porr caputene. Tu usa una di queste. Stannalo. Oh ma che bello. Ma a distanza ravvicinata Varric c'ha un'animazione che fami lì. Che figata. Raga questo mica è da poco eh. Oh bravi. Si non lasciate il mago da solo. Questo fighissimo ragazzi. E' una figata. Dai esci dallo scudo. Pezzo di merda. C'era Ruka davanti allo scudo. Toc toc. Toc toc. Che faceva tipo. Menacing proprio. Buonasera Schiavara come stai bellissimo. Sono entrati in live al pezzo di merda. Bene sera. Si si è sempre una buon sera quando c'è la merda in mezzo ragazzi. Questa direttamente da Gianni Morandi. Comunque. Sti maghi guarda oh. Non ne abbiamo incontrato uno. Uno che non avesse lo scudo. Io tutto bene tutto bene. Stasera si fanno un sacco di quest. Un sacco di cosine. Avete visto come ci siamo sparati tutti i codex tra l'altro all'inizio. Quindi adesso andiamo molto più fluidi. Cioè si ne troviamo. Porca puttana del sacco. Ne troviamo uno ogni tanto però andiamo molto molto più sparati. Easy. Ma è meglio quando c'è la borra. Anche quella. Male non fa. Fa schiuma ma non mi ricordo cosa. Cos'è? La borra. Ciao Aveline. Ah non era il main. Mi sta finendo la voce. Ho stonato tantissimo. Non era il main. Salve. Ah cazzo io mi ero pronto già ad aprire i guli. Varric pensaci tu. Sei tu quello carismatico del gruppo. Viscount's well known love child. From his elven mistress. The boy he swore to protect. Even if it meant raising the entire free marches. I seek no war with the free marches. Take the lad to his father. Varric. Grande scrittore di libri. Frottolone ma. Ok. Piano. S'ha fatto. Puttanagli. Così. Ma che gentile. Guarda che bella che c'ha la pappagorgia. Madonna che fregno che è. Vabbè. Non mettiamoci a parlare di questi ragionamenti. Forse c'è un altro modo. Sono qui per aiutarti. Faimril. Perché? Non lo conosci. Non lo conosci. per proteggere la mia sorella. Non lo conosci. 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 Ehm. Sarà una vita difficile. Anche perché sappiamo che i Dalish. Pure con i Maghi. Che. Comunque è bello con i Maghi. Ovunque vadano vadano. Sembra pizza in faccia. Per adesso. Il posto peggiore. Nel K'yun. Perché tra l'altro. So proprio pure loro. Che dicono. Ok. Ho fatto qualcosa di male. Se danno fuoco. O abbiamo visto. Quindi. Sarà una vita difficile. Siamo soli. Mentre i Dalish. Anche più di un Dalish. Siamo qui. Comparata a essere preso. O tornato tranquillo. Riesco essere soli. Guarda. Siamo diversa. In altri kingdom. Ma qui. Niente aiuta ai Circles Maghi. Quali cosa i Templari non li gustano. Hai il brand. I Dalish. L'hanno avuto magica sempre. L'hanno potranno insegnare. Non sarò un pericolo. Spero. Spero. Spero che ti ritieni giusto. Non la tua magia. Ma credo che ti ritieni. Se c'erano un altro modo, il Circle lo saprebbe. Faccio che ti tieni giusto. Spero che ti ritieni giusto. Spero che ti ritieni giusto. Spero che ti ritieni. Grazie. Non l'ho fatto. In miei più dimenti, non potrei aver visto questo. Grazie ai Creatori. Sei la mia madre ha chiesto per mi trovare. Spero sempre in tua ditta, amore. E a tua madre no. Povera Grista che hai fatta soffrire. La mia madre ha bisogno di sapere che sia vivo. Lo so, Averine, che è un po' scornito. Tre monete d'oro tra l'altro. Tu c'hai fatto una camicia con la pelle. Siamo coso, leather face. Ma di qua si può ancora esplorare? Anche Mary la prova, giustamente. Baule. Guarda mani dell'alchimista. Oh, oh. Ok. Papà o mamma? Il papà lo prende a cinghiate sull'incontro. Quindi andiamo dalla mamma che è meglio. Quello ha detto... Cioè, si è palesemente voluto fare un'elfa. L'ha messa incinta. Ha detto, no, no. Figlio no essere mio. Si è dato. Da italiano vero. Di qua c'è qualcosa? Dai. Dai. Una piladoscia. Solo? Sì. Frammento di occhio di tigre. Va bene. Ecco, ma comunque veramente il veleno dura mezz'ora. Brogan. Perché lo sanno anche loro che gli scontri durano un fottio in cubo. Quindi dicono, no. Ci appalla al power up. Pippiri. Vai, vai. Dai che stasera c'è ciccia. Oddio, me la devo rifare tutta a piedi. No. No. Oddio, sono lontanissimo. Porca puttana. No. Si corre, ragazzi. Si fa un po' di scampagnata. Vai, vai, vai. Più veloce che sai. Dai, sono un pan di zenzero. Acchiapparmi non potrai. Chissà quando si troverà l'armatura quella bella. Perché so che c'è in game. So che c'è in game quella lì. Sarebbe figa. È molto molto bella quella da guerriero. Io sto zeccando zona. Sì, c'è la casetta. Ok. Si sa mai. Arrivo e non mi fanno andare. Eh, dovrei cercare la meta. Ma purtroppo come stavamo a parlare un sacco anche con Kyle. Dragon Age 2 veramente. Ci sono solo due o tre mod interessanti. Il resto è tutte puttanate. I personaggi sono più potenti con vite statistiche. Sì, dalla volta scorsa ho fatto un livello. Ho fatto un livellino tattico. Però sono diventati più strong perché ho portato diciamo avanti tutti i vari cap per quanto riguarda l'attacco. Adesso gli sto portando avanti la vita, il vigore. E ieri, ieri da sera. Madonna, il mech ragazzi mi sta facendo l'ira di Cristo mi sta tornando su. Porca Eva. Oddio no, questi mi fanno andare sulla montagna raga. Questi mi fanno andare sulla montagna. Che cosa c'è qua per l'erborista che devo prendere? Non mi fate rifare tutta la scampagnata fino sopra la mappa. Guarda, mi sparo... Mi infilo lo spadone veramente in fronte, ve lo dico eh. Mi te prego, no. Mi supplico. Dove cazzo è? Cosa c'è qua per il... In che? Trova la ghiandola setifera di un regno gigante. Vivono tra le rovine sparse per i liberi confini. Trova del legno ferro puro. Chiedi indicazioni di Dalish su dove cercarlo. Ok. Buonanotte, Jorak. Grazie per essere stato con noi. Bello, dormi bene? Faccio un backflay del giro della montagna. Se tu mi sai dire qualcosa? Ma vattene a fangulo. Oh, eccolo, Fenriel. Figata. Ciao. Come vanno gli incubi. Ha il giro stato potente ai aiutare con la magia? L'agrazione, non è un problema che abbiamo incontrato prima. Sto studiando le scrittime nostre storie, ma è un processo lenticato. Il sango di l'amore ha fatto difficile da creare. Sai, quando vivi in Kirkwall, mi senti che tutti potessi capire con la faccia che ero un elfa. Ora ho capito che ho passato. È più difficile qui. Ancora, ci spettiamo che ci porti qui, amico. Raga, si vede... Qua hanno fatto una cosa fighissima. Si vede ancor di più che un mezzo elfo. Io non ci avevo fatto caso. Alle orecchie. Solo leggermente appunta. Leggermente. Quindi ti fa... Ok, hanno finalmente messo che sei un cazzo di mezzo elfo. Quindi molto probabilmente lui ha preso molto di più dalla parte umana. Quindi la sua magia non è di natura elfica, ma è di natura umana. Ergo sarà molto più collegata ai demoni, chiari, chiari da sé. No, penso che sia tipo un bug. Perché c'ha le texture qua che diventano... Oppure sì, eh. Apre la bocca, signora. Mi facci controllare. Scusa, lei sa dove posso trovare del legno ferro? Ah, è vero, c'hanno il nero qua. Ah. 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 Ah, ok, intendevi. La rimocia. Sì, quello probabilmente potrebbe essere. Ma perché hanno fatto un lavoro molto bello loro sugli accenti. Cioè, tu puoi capire da dove viene una persona molto bene dall'accento. Perché se parla con quello francese, molto pronunciato è di orlese. Se parla con altre cose è di antiva. Gli elfi siete che gli hanno dato questo tipo di pronuncia. Eh, lo sai che mi sa di no. Magari mi ero presentato e gli facevo... Dove è il legno ferro? Ma questa è una cosa che succede molte volte. Tutti quegli intermezzi in cui parla Aveline, in cui parla lei. È perché appunto me le porto appresso. Perché in mezzo a delle quest con dei maghi e compagni ho detto fammi portare lei che comunque è molto vicina a quella roba rispetto a Bethany. Sto cercando del legno ferro. E cosa ha dissuoso i vostri cacciatori? E cosa ha dissuoso i vostri cacciatori? come i Daelish, che non si riuscano a vincere nell'area. Il tuo rispetto per i nostri cacciatori è il più sorprendente, Stranger. Il posto è fuori da Darkspawn. Se avessi cercato di eradicare loro, rischiamo i nostri cacciatori che ci siamo restati. Vi mostrerò dove l'area è. Ciò che fai con l'informazione è a te. Ok. Perché come vi ho detto molte volte, il sangue di Proluscura è letteralmente corruzione. Cioè, in generale, i Proluscura sono corruzione. Quindi se loro magari li uccidono, li fanno attaccare, succede un po' di puttanaio, rischiano magari di corrodere tutta la zona. Ma di qua che cosa c'è che non ci sono, mi sa mai stato? Ah, c'è un passaggio per una cosa, per una caverna. Qui c'è un buco. Ah, beh. Va bene. Non c'è niente. Era un buco. Basta. Va bene, minchia. Quindi pure i Proluscura. Beh, perché giustamente, come sappiamo da Dragon Age Origins, dopo la fine del primo, si sono divisi in tribù, si sono sparsi. Ma perché alla fine è come... Oh. La duna del Reglio Ferro. È come un po' nel Signore degli Anelli. Cioè, comunque continuano a girare. Non è che ammazzi il capoccia, spariscono, diventano polvere. Eh, ma lo sai che potrebbero battergli aiute? Potrebbero battergli. Una zona nuova. Oh, belli Proluscura. Madonna. Madonna. Che figata che siete. Chi cazzo è laggiù? Ah, è Aveline che sta da sola in mezzo ai Proluscura. A un Proluscura. Palla di fuoco. Tu questo. E a questo qua ci penso io. Anzi, prima uccidiamo il balestriere che è letale. Eh, era da un po', sì. Infatti, figata. Potevano fare un dettaglio bello con il sangue magari nero, piuttosto che rosso. Eh, vabbè, il Genlock è fatto da Damanti, oddio Cree. Beccate sta bo... Adesso che hanno fatto vedere che Dragon Age Devil non uscirà prima di aprile 2024. Un po' ci spiega che uscisse quest'anno. No, non avevo visto. Sapevo che sarebbe uscito nel 2024, ma dal mio piccolo, per quanto mi sto... Eh. Per quanto mi sto... Uno Shriek! Oh, che bello. Aspetta, esteticamente. Guarda che adesso è più un elfo. Ha tutte le... Le orecchie lunghe e corrotte. Guarda lì. Oh, cazzo. Sarò questo. Così. È un elfo corrotto, cazzarola. Bello, madonna. Io stavo dicendo che per quanto me ne sto appassionando io nel mio piccolo piano piano, conoscendolo, e per me si possono prendere tutto il tempo che vogliono, sinceramente. Perché... Io so che col 2 è successo quel che è successo. Con Inquisition non è stato proprio il top, ma sono risali di un po'. Dread Wolf, se riescono a fare anche la meta di Origins, in modo magari moderno, potrebbe essere qualcosa di veramente devastante. Cioè, guarda lì, con le lame inchiodate alle mani. Fighi, 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 fighi. Veramente fighi. Leppa. Vabbè, c'è roba. Balestriere. Genlock. Ah no, questa è la stessa zona dove abbiamo affrontato... Io pensavo fosse una zona nuova. È la stessa da dove abbiamo affrontato i cunari prima. Però sono curioso anche delle scelte che faranno nell'ambito di come puoi ruolare tutto quanto, eh. Perché non è scontato magari che ti facciano giocare con altre razze e compagnie, anche se dovrebbero. Anche se dovrebbero. Sarebbe una figata. Salve. Un altro Shriek. Oh, bellissime le animazioni. Laggiù c'è un coso. Un Genlock che sono furtivi perché sono dei nani. È esatto. Cioè, per me... È come Baldur's Gate 3, raga. Pigliate per tempo che volete pigliarvi perché capisco che è un lavoro veramente lungo. Soprattutto dopo il fatto che siamo noi a Dragon Age 2, è Dragon Age 4. Ce ne stanno troppe poche di puttanate che devono un attimo vedere come si sono risvolte. Buongiorno. Ne devono vedere un po' tante. Dei situazioni. Tu... Barri che tu ti dovresti togliere da lì, magari... Non so. Palla di fuoco. Poi... Questo... Così li sciottiamo. Quello ci pensiate voi. Ci pensiate voi. Cioè, scusate, ma... Ah, figata. Figata. Divorare sul Genlock mi ha fatto dei danni. No, mi sa di no. Mi sa che mi ha colpito. Sì, sì, ma dopo tutti i lavori che ha fatto l'Alarian Studio per me... Cioè, loro stanno lì tanto. Tra l'altro esce ad agosto, quindi... Figata, ancora di più. Non vedo l'ora. Sapete che ce lo giochiamo, Badus Gate, eh? Ah, voglio se ce lo giochiamo. Assolutamente. Ma questa cosa farà male a... Ad Avelin. Domanda. Vediamo, facciamo il test. Eh, la madonna che era un missile terraria quel coso, Varric. Sì, comunque, gli fa male. Gli fa molto male. Varric, una curetta tattica, male non ti fa... Ah, ma questo è un povero Cristo pietrificato. Gli è caduta sopra un... Veramente una frana. Un ogre. Un ogre. La deluxe non ho visto che ci sta dentro. E anche perché io... Dovete sapere che Badus Gate ormai ce l'ho... Non fisico, però ce l'ho comprato. Io me le sono vissute tutte le aggiunte di classe. Tutte. Allora, quello è greve. Quello è greve. Quello fa male. Quello è molto greve e fa molto male. Quindi stiamo... Facciamoci un cicchetto tutti insieme, per favore. Mery l'hai buttato giù un ogre. Madonna. Un toro. Saccia toro. Eh, vabbè, vabbè. L'ogre è fatto di merda. Va bene. No, io tipo il primo capitolo l'ho devastato. L'ho devastato e ho capito il potenziale. Infatti da quanto l'hanno... L'hanno annunciato che sarebbe uscito ad agosto non l'ho più toccato. Ho detto ok, rimani là. Me lo godrò per bene quando uscirà. Però... Tanta roba. Tanta roba. Poi dovrebbe essere anche in arrivo... Dove dovrebbero fare la traduzione italiana non vocale, ma... Almeno dei testi. Quindi... Me coglioni. Me coglioni. Qua è il legno ferro. Cadavere. Abbiamo corrotto per vita questa zona perché quelli rimangono lì. E ce ne andiamo. Ce ne andiamo. Ok. Inganno era quello di Fenris. Calma era quello di Coso. Conti in sospesa. Andiamo a parlare col signorino. Che cosa ci sarà già dal lancio che già mi son dimenticato Matt? Mi son dimenticato quello che ho detto. Spero che aggiungano i mezzorchi. Spero che li aggiungano i mezzorchi. Salve figa come roba. Cioè... Capisco... Che non mettano tutta la storia del creato. Anche perché hanno proprio precisato che mi sa fanno tutta la roba del player handbook. Cioè della roba base. Ah, ok. No, Gustav è tornato qui ma non ha rifugito di parlare un'altra domanda di cosa ha fatto. Spiti. È morto o non? Non l'ho trovato! L'ho morto dopo la volta che arrivò là. Ho solo matato i guardi. Ho pensato che sei meglio a questo. Credo che nulla succede se non lo faccio io. Per me stesso. Forgli la bonti. Ma qui c'è un po' per portare Gustav. Ti ho rotto un vaso. Che è successo? Ok. Ah, varic più cinque. Eh, la madonna. Io spero sinceramente però che non si facciano stronzi con la traduzione italiana. Perché sta cosa, la Larian, bravissima, ma l'ha fatta veramente troppe volte. L'ha fatta veramente troppe volte delle... Sì, poi la famo. La fanno in fanno. Loro fanno ok, grazie. E poi la mettono. Però... Vediamo se... No, ok. Non succederà niente. Andiamo... Da Ferris. Ah. Una lettera errante. Figlio ribelle. Andiamo a dire alla mamma. Ok, ci siamo fin... Oh, raga, forse stiamo finendo le quest. Bonnie! Bonnie che stiamo a finire le quest, forse. Dai, 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 dai. Non ci credo neanche io. Non ci credo, non ci credo. Corri, corri. Signorina. Senti come tossisce la signora. Eh, quello è un peccato. Quello è un peccato. È una cosa che succede in un sacco di giochi che devi fare sti puttanaie. Che devi rifresciare le aree perché magari vanno in conflitto delle cose più avanti o compagnia, eh. Il tuo figlio ha portato il refugio con il Dalish. Cosa? Ma è umano. Non avevano mai voluto capire lui tra loro. Ma hanno valutato la magia più di quelli di Karkwals. Potremmo possa avere la sicurezza e la libertà. Come ho detto, ho poco di money. Ma questo è un ring del Dalish che ha stato nella mia famiglia per generazioni. Per favore, accettiamolo con le mie grazie. Ma avevo così. Che tanto davvero non ci avevo fatto caso. Questa non è un'elfa del conclave. Dell'enclave. È un'elfa delish perché c'ha i tatuaggi in faccia. Quelli se li fanno proprio per differenziarsi. Non ci avevo fatto per niente caso. Ecco perché dice che è più delish che altro. Andiamo a vedere se a casa sono arrivate delle lettere prima di finire tutto l'inferno. Casa di Gamlen. In realtà questa sarebbe casa nostra. Visti gli ultimi risvolti. Ma dettagli. Un elfo può avere un figlio se fa l'amore con un elfo che magari ha antenati umani? Sì. È il motivo per cui poi essenzialmente Star hanno perso l'immortalità. Perché hanno cominciato a figliare a stecca tra di loro. E quindi si è andato sempre di più a scioglie. Il... La purità. Così. Un atto di carità. All'erede della dinastia Hawk. Non l'avrei mai stato contattati direttamente ma ci siamo già incontrati in passato. E so che sei una persona della buona reputazione e della capacità straordinaria. Ti prego di incontrarmi fuori città perché ho bisogno del tuo aiuto per un compito delicato. Come segno di buona fede ho legato una modesta somma a questa lettera. Ci sono altre monete che ti aspettano se accetterai di aiutarmi. Ti prego vieni una pena ricevere questo messaggio. In caso contrario metterai a ripentare i rivi di molti innocenti e cordialmente un amico. Fotti sti sordi. 50 monete d'argento. Vabbè che sarebbero... 50 euro eh. Cioè ricordiamolo. E' come in D&D quando vabbè ma so 50 monete d'argento. 50 euro. Per... Perdi. Vabbè. Diciamo che sospicci. Diciamo che sospicci. Andiamo. Allora calma la faremo la prossima volta perché è una delle main. E' una proprio delle main one. accesso... Perché c'è una roba apposta per un atto di carità? Perché appena arrivo mi salta addosso anche Cristo? No? Tratta a mezzanotte e mezza siamo 14. Grazie. Belli e grazie a tutti i lurker. Ti fanno sempre accedere da zone differenti. Un drago. Non so se qua vengono tassate star. Non credo. Perché ci sono dei draghi? Dei cucciolini? Cioè vedete io voglio magari li poter livellare anche più velocemente. Per non farvi vedere io che faccio sempre la solita combo. Che è un po' un peccato. I draghi? Fammi vedere se è come se sono Dark Souls. Deboli al fulmine? Yes. Deboli al fuoco o immuni? Immagino immuni. Immuni al fuoco. Ok. Buona sapesse. Crit. Iride di drago. Bastone rotto? Sì ma chi è che ci ha chiamato? Perché ci hanno chiamato? Sono morto. Oh. Sono vivo. E Ruka colpisce ancora. Facciamo questa cosa. Mi sono stordito da solo ma almeno sto... Uh Varric. Varric che cazzo t'ho creato? Varric avete questa? L'hai missati tutti? No ne hai presi due. E bravo Varric. Su... Lei? Io sono ancora stannato però ho distolto lo sguardo. Beh la stabilità. Posso... No. Perché sono andati da Varric? Varric! Ah sono immuni è vero. Sono immuni al fuoco. Me la dimentico sta cosa. Ruka è morta. È stata sbarranata da dei draghi. Non me ne sono accorto. No pensiamo a lui. Tu vieni qua. Eh Ruka è caduta giù come una peracotta. L'ho lasciata in mezzo ai draghi senza accorgermene. È successo puttanai. Si scrive R-O-O-K. Sì. Molto inglese. Dai. Mica ma infatti come ha fatto a morire Ruka? Solitamente è un muro lei. Eh bevi di una pozza. Bevi di una pozza e baffate pure lo spadone. Dov'è c'è un drago? È per fo' raga. Tutti sti cuccioli. Eh la mappa è pure vuota da riesplorare. Eh vai finiamo così. Andiamo prima di qua. Vediamo se c'è qualche tesoro. Anche perché queste poi non è che sono le stesse mappe ma il gioco le calcola in modo differente. Quindi bisogna riesplorarle per vedere se ci stanno materiali. Esattamente. Tornano in vita però con delle ferite. Che variano a seconda di come gli giri essenzialmente che magari ti riducono la vita massima, il tempo di ricarica, la velocità di movimento, l'attacco. Nell'originale in origine ci stava tipo frattura al cranio. Una roba del genere. Io sto facendo il giro lungo ma mi sa che non serva un gazzo, vero? C'è un cadavere. È pieno zeppo di cadaveri. Questo preoccupante è. È diventato Yoda per un attimo. Eh va bene. Anche perché è un amico. Statuetta rotta. Qua sopra non credo ci sia niente. No. Di qua ce ne andiamo. Ah no è proprio per andare su. Ah è Trask. Ok. È il templare con la barbozza. Ho paura. O si sta per ammazzare o ci vuole ammazzare? Sono due le varianti in gioco. Ah no perché è l'entrata di una caverna. Ok di eretici. Di che si tratta? Di che si tratta? Sì sì. Sì sì. Sì sì fidate che questi si arrendono. Non mica ci stanno per sparare 75 magie. Come ci sono arrivati qui? Cosa faranno i templari? De duco. Vabbè infatti non gliela chiediamo neanche. Dicono questi arrivano qua li sterminano. Ma sicuro. Va bene. No. Ok. Mi piace come Amelie neanche ha parlato. Si è girato e ha sorriso. Si esatto. Proprio ha uno sguardo di una cucciolona. Ha fatto quel sorriso leggero leggero. Ha fatto bene. Ha detto brava Ruka. Ok mi sei piaciuta sto giro. Non hai fatto la strozza. Va bene va bene. Tenerina Amelin è proprio l'alister di sto gioco. Ci sta niente da fare. Certo queste schermate di caricamento in che cosa sono fatti? In 360p? Eeeh. Eeeh. Li vedo come gli eredici non hanno fatto cose brutte come al solito. Lo vedo. Eeeh. Eeeh. Si. 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 Assolutamente. Ma. Ma. Mica li lasci. Cazzo da soli un attimo e fanno puttanei. Ma te dai. Dov'è il mago bastardo? Ecco. Inchiodalo sul posto. Avelin vai a tancarti tutto. Tu già gliel'hai messo il malocchio. Bravissimo. Con ste pozze di merda. Con queste pozze bastarde. Allora. Varric. Tu spara un bel 4 in mezzo che fai in bordello. Non è vero perché si sono spostati tutti. Tutti. Tutti si sono spostati. Tutti. Tutti si sono spostati. Il mago è la ziu. Eeeh. Che cosa sta evocando adesso? Fai a cuccia. L'abbiamo interrotto. Oh. Ah pure giustamente già ho pensato. Giustamente è un mago del sangue perché se ci stanno i cadaveri. Beccate sta granata. Io mi sono fatto male da solo fortissimo perché ero un pixel dentro. Ok. Beh. Perché più che altro sta quest... Si sta quest... Sta cazzo di skill. Ci mette... Eh lo so. Eeeh. Lei subito dice dobbiamo sterminarli perché sono maghi del sangue. Eh. Mi sa di sì. E con la skill per fare ci mette un fottio. Sono oggetti utilizzabili che puoi craftare E tra l'altro sono pure una mega chicca Perché non le può usare nessuno Se non tipo noi Perché abbiamo ucciso i cunari Abbiamo trovato questa ricetta Tra la roba dei cunari Perché la polvere da sparo L'ingegneria e tutte quelle robe Sono solo cunari C'erano solo loro Allora vedo un sacco di cadaveri Niente mago Prano Perché tanto ne spawneranno altri Ma tipo 100-100 Ma tipo sicuro Ah immune a sta roba Peccato E' immune pure a malocchio? No Che bello Barrick che tira Ah perché giustamente tira i calci Perché se usa delle abilità a distanza Mentre qualcuno è vicino Lo interrompono Quindi se tu carichi I distance Puoi praticamente devastarli Perché gli interrompi proprio l'attacco Ok Figata come cosa Figa 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 Hanno cercato di bilanciarli magari così Gli arcieri perché io mi ricordo che in Origins Gli arcieri erano veramente Degli ammazzate anche Dei cazzo di A o epiventi Quelle classi Erano devastanti Un cadavere Noi siamo venuti da lì E ci dobbiamo infilare qui Di potenza Però certo Sto coso dura mezz'ora Ma ogni volta che cambiamo una zona Si resetta Porca puttana Questo è un po' un peccato Uh Lirium grezzo Buono Attenzione Scheletro arciere Addirittura Addirittura Sì ma non lasciate Meryl da sola Addio cristo C'è il mago Ah questo Oh ok Questo è spaventato Perché magari Gli è partita senza volerlo Eh Ok Non so tutti i stronzi Mi sa Lui Lui Chi è lui? Decimus E' stata la sua decisione Si diceva che i templari Nessi Nessi Se non usano Se è il nostro Stato Lui 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 E la magia Si riuscì E la magia E la magia Si riuscì E la magia E la magia Decimus È vero La magia È un lavoro Di mali Non solo Un potere Che i templari Siamo Di mali E se fossi Pure tu Mago del sangue Però Bene Parlami Di Decimus Decimus È il leader Di questi magia È Cosa Ha detto Che con Aphalacto Nessuno Nessuno Potrebbe Nessuno Fritti Credo Che Sì 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 Oh Se mi fa Tuscino Altro Demone Dell'orgoglio Mi Incazzo Perché Siamo Siamo All'atto Uno Oh Che Non è Un Cazzo Di Nessuno Se Ammazza Un Demone Dell'orgoglio Mi Incazzo Posso Aiutarti Fidiamoci È Un mago Del sangue Che cazzo Ti aspetti E sia mai Che poi Appena un mago Gli dà Un po' De potere Non gli Pia subito Schiri Bizzote Devasta Il mondo Mai 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 E succede Lungi Da Loro Ogni volta Che gli dai Uno sbriciolo Di potere Questi diventano Veramente L'anticristo Tacci Loro Una Pila Di Ossa Monete Chiuso Basta Sarà Per un'altra Quest Questa Porta Eh Io ho paura Per questo Boss Finale Ci avevi Detto Ogni volta Che noi Entramo In un Dial Ah No Ce l'abbiamo Ancora Ok Diciamo che in generale star contro tutti perché essenzialmente i templari sono macchine anti-mago perché possono annullargli i poteri so potenziati e tutto quanto però essenzialmente il loro compito sarebbe quello di sorvegliare dentro i circoli che Sono ste letterali torri dove ci mettono i maghi e molte volte andare a caccia di quelli che scappano di quelli che non si sono subito fatti mettere dentro ai circoli come sarebbe successo al mezzelfo di prima Diciamo che dipende da templare a templare perché di buono e cattivo è sempre molto relativo perché tipo il nostro caro signorino fuori è buono non li vuole uccidere vuole dire ok diamogli un attimo di salvezza Mentre quell'altro che deve arrivare vuole esterminarli tutti e sta diventando Goku super saiyan La maggior parte probabilmente si anzi se scoprivano che erano una maga mi volevano infilare in tutti i costi dentro a un circolo probabilmente Eh quanti scheletri Oh che bella Sta usando gli altri maghi come sacca di sangue Bene magia del sangue è la scuola proibita Alla nostra Nico Ah so che siamo durante una fight All'inizio gli antichi abitanti del Tevinter non consideravano la magia del sangue come una scuola vera e propria Piuttosto la vedevano come un mezzo per raggiungere un potere superiore in ogni scuola di magia Perché ovviamente non è una scuola di magia di per sé tu usi il sangue al posto del mana Ovviamente Il nome ovviamente servisce al fatto che la magia di questo tipo usa la vita nella fattispecie il sangue al posto di mana Al posto del mana In passato era una pratica comune per un magista disporre di un certo numero di schiavi dei quali usare il sangue Nel caso in cui si fosse trovato a lavorare un incantesimo che andava fisicamente oltre le sue capacità Col tempo però l'impero scoprì tipi di incantesimi che potevano essere lanciati solo con il sangue Anche se il lirium permette a un mago di inviare la propria mente cosciente nell'ombleo l'aldilà Il sangue gli consentirebbe di trovare le menti addormentate degli altri Di vedere i loro sogni e persino di influenzare o dominare i loro pensieri State a capire che roba è Per quanto pericolosa la magia del sangue permette di aprire completamente il velo In modo che i demoni possano attraversarlo fisicamente per giungere nel nostro mondo Sebbene per un certo periodo la pratica della magia del sangue sia stata prohibita dentro i confini dell'impero Di recente sembra essere tornata in voga L'attuale nero divino ha annullato la maggior parte dei divieti contro i viandanti dei sogni Che è E così molti maghi dell'impero ne approfittano il nome della ricerca Fanno un po' come la strega Scarlet Witch Proprio o meno Ma va bene Decimus e tanti cadaveri Allora lì c'è uno scheletro cadavere che va subito devastato nel culo No aspetta si è scheletro arciere Merrill Io ti direi di Buttare Vediamo 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 Anzi lancia un palla di fuoco su quello Madonna mi sta tornando su tutto perdonate raga Varick è stato quasi shottato da che cosa Perché ha usato su Ruka qualcosa che assorbe il sangue Maledì e la madonna Pezzo di merda Stai a cuccia cancro Guarda che cazzo ha fatto Minchia su sto gioco l'hanno resa OP eh Su sto gioco l'hanno resa OP Sì la magia del sangue shottate quello stronzo Tu vai a parare il culo ai nostri amichetti là dietro Non posso fare questa cosa no Eh L'hanno resa greve L'hanno resa si Va decimus Pigliatela in culo Ficchi puttana Scusate Troppo Too much Minchia Varick che Che cazzo di Di madonna Ti tirano addosso Dio cristo Merrill che è successo Un altro Ah Ah va bene Tra l'altro non ci sta soltanto decimus Ci sta pure tutta l'allegra combriccola Qui vedo eh Ci sta tutta l'allegra combriccola Ce ne sta pure uno sopra C'è un altro re Eh sì la madonna Poi vedi Poi dici perché i templari vogliono sterminare i maghi Poi dici perché i maghi vogliono Sterminare i maghi Taci vostra De kimbo dice Taci vostra Allora Lei è stordita Tu hai fatto quello che hai dovuto fare Sì Quanti cazzo di Signorini Eh Varick è morto Palla di fuoco Palla di fuoco Tu attiva sta cosa perché ti serve come il pane Madonna guarda Meryl Però ho detto perché i maghi vogliono sterminare Vabbè perché i templari Perdonate Si è fatta Mezzanotte e 45 pure per me Eh Meryl ti stai prendendo Eh Esplosione Ok Morta C'è un altro eredico Questo del sangue Sono rimasti due tank del gruppo I maghi sono andati Le ossa le smashiamo noi Vai Madonna che belle le animazioni Del distruttore Sono proprio belle perché sono molto caotiche Molto barbaresche Aveva un pixel di vita Ho esagerato Ho esagerato Come va Averine Ecco Averine sta attaccando così Perché povera sta con tutta la roba difensiva Però l'ha ucciso Ok Tu ha ucciso L'ho ucciso Oh Decimus Tu dovresti aver ascoltato a me Oh Tu Tu sei uno di noi Ma non sei una marca del circolo Come è che hai sbagliato contro la tua propria Non vedete le orecchie e le tattose Sono Dalish Non sei la mia propria Decimus ci ha dato il coraggio di facegli i templari Eh Meryl Ce l'hai anche tu Però un po' di Cioè Io capisco che l'ha detto per dirgli No Cioè Io non sono un mago del circolo Sono una maga Dalish Cioè Non siamo stesso tipo di mago Per dire Però ho sentito un po' Era un mago del sangue Senza ma tu lo capisci che il discorso che hai fatto Veramente io ti dovrei prendere Ti dovrei dare un sacco di carezze con la lama in faccia Cioè Eh Quando avresti usato la magia del sangue Tutti ti avrebbero visto solo per quello Dio può Perdincibacco Sono entrato qua dentro Ho affrontato 74.000 cadaveri Non mi ha dato il tempo neanche di parlargli Mi ha attaccato Oh Ma che si rincoglionita Ma che cazzo Ma dovessi essere un attimo intelligente Essendo un mago Oh Cioè Quando una scuola di magia Cioè I I Veramente Piano piano l'abbiamo imparato a conoscere All'interno di questo mondo Non è tipo la necromancia di D&D no Che pure il chierico può usare la necromancia Per riportare un defunto in piedi Ci sta necromancia Necromancia Qua letteralmente Fai solo bordello se la usi Solo Non ci stanno lati positivi Che non sia il potere Dio Cristo E Dove vorreste andare E come dovrei aiutarvi Sperando che non gli stia dicendo di sì Buonanotte Liquid Grazie per essere stata con noi bello Buonanotte Buonanotte No No Cioè perché Qua è il solito discorso Il templari Ok Aizzano da entrambi le parti Ok Però il compito del templari è quello E neanche dire che voi non l'avete fatto Voi l'avete fatto E probabilmente Pure tu sei mezzi immischiata Quindi no Col cazzo che vi aiuto Eh Madonna Mary rivalità Più 25 Come siamo messi Siamo limiti limiti Ho fatto tutti più più Mary l'è inutile che me guardi così Amore da mamma Eh oh Cioè io capisco che tu sei una maga del sangue Ma tu non sei Cioè tu hai una consapevolezza del tuo potere Che è diversa da loro Totalmente Il bastone dell'ipnotizzatore Tra l'altro Cioè c'è proprio una concezione differente Perché questi Come hanno dato Cioè Ricordiamo Hanno dato fuoco in circolo eh Cioè dare fuoco in circolo Dio sapete quante persone dentro a quel cacchio Dei posto saranno morte Dove cazzo sto andando Porca troia Ma perché non puoi usare la radice Perché devi essere per forza ferito Eh sì Qua è già aperto Sì Devo craftare Ma infatti strano che non ci hanno fatto Oh che bella Strano che non ci hanno fatto ancora trovare delle pozioni Sì dei Dei blueprint Dei medikit Ma perché per Meryl I maghi dovrebbero essere liberi Cioè per Meryl Sta cosa dove sta dentro ai circoli Chiare chiare da sé Non sa da fatto Tanto che cazzo devo parlare Con Terry Con Grace O chi Terry Cioè lei vorrebbe renderli liberi Però lei Non ha Lei ha la concezione Del mago Del Dei delish Non ha la concezione Del mago umano Che è un figlio di puttana Perché ogni volta che un mago Utilizza sto potere Perché pure Meryl lo usa Pure Morrigan lo usava Ma non andavano A fare quei puttanai Per adesso Da quel che so Mentre un mago Fino ad adesso Tutti i maghi del sangue Che abbiamo visto Che hanno avuto un attimo di potere Venivano proprio risucchiati Ma perché giustamente Vanno a stretto contatto con i demoni C'era un puttanaio Ah ma me la devo rifare a piedi Verso l'indietro Mi stai a divè Portacci Dua Brutta stronza Eh sì Tocca rifarsela a piedi Eh Cioè io ripeto La maggio del sangue Che posso capirla Eh La capì Ah Abbiamo fatto un cazzo noi Facci vostra Cacci vostra Perché questa è tutta opera Del maggiore del sangue Perché come abbiamo letto Squarcia il velo a spack Squarciando il velo a spack Sapete quanti Spiriti I demoni E cazzi e mazzi Passano da qua Che si infilano Dentro ai cadaveri Dentro agli oggetti Prendono forma Se sono più potenti Eia 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 Pure troppi Cioè se mi continuano A mostrare Sta faccia Dei maghi del sangue Raga Mi dispiace Ma Se la prenderanno In culo Se avessi pure potuto Un attimo Convincerli Parlargli Fargli dei tiri Su persuasione No 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 Tu entri Tattacca Fatto va bene Poi te fanno pure Ammazza il templare Peccato che non ci stava La linea di dialogo Con cui potevi di zia Questo ve sta Cercate parare il culo Cioè Se non fosse per lui Voi eravate già stati Sterminati Tutti Anzi Sta arrivando Lo sterminio Madonna mia Eeeh Altra gente Di nuovo Eliminiamo Gli arcieri Che so Rotti Io sono Vado a Uccidere le retrovie Ogni volta Bellissima Come cosa Quello è morto Si Ok Ok Infatti abbiamo Ribilanciato Con Mary L'avamo fatto Tutte le cose Buone A sto giro A fa un culo Fortissimo Ecco Almeno vi rivedete Questo pezzo Di dialogo Me lo faccio rivedere I maghi Si sono arresi Cerchiamo Di Calmarci Siete liberi Ok Sono contento Emlock Adesso riposati Mi raccomando E Aveline Rivalità Mi dispiace Aveline Ma questi Sono dei vigli Di puttana Adesso Siamo tornati Tutto quanto Non ci stanno Puttanai Concentriamoci Concentriamoci Ok E vabbè Una orta Ogni tanto Finchè non è Ogni giorno Ci sta pure Su chi lo stai Mettendo Tu questo Aveline Tu vai qua In mezzo A tankarti Quello E vabbè Che cazzo Di difese Dovete avere Figli di Puttana Madonna Ok Anzi Un palla Di fuoco Qua Tattico Bouni Micchia Spawn kill Li ho Spawn kill E non me ne frega Niente Di Varric Stanniamoli Buoni Ma io penso Che non vado A comprare Degli abiti Da non so Quanto Quindi Lasciamo Perdere Qua dietro Come va C'hai Un cacciatore Che va Assecato Immediatamente Va Assecato Immediatamente Sto figlio Di puttana Varric Bivite Una Puzza Tu Una Puzza Pure Tu Più O Meno Ok Per Kaverin Mi sa che si sta Tancando Il Tagliagole No Il tagliagole Sta per tirare Una madonna Ragazzi Ancestrale Proprio Sta per Tirare Una Madonna Ok Ficca Adesso Scontro Comunque Difficilotto Scontro Difficilotto Bastardo Come state Messi Giustamente Sono resistenti Alla magia Sti figli Di puttana Che cosa Cazzo E' stato Shottato Hanno shottato Due persone Con una pizza Vaffanculo Perché sto Cacciatore Di merda Dio Cristo E' Risparito Tra l'altro In merda Guarda Che cazzo Di Sleppe Che tira E' Aveline Meno male Che tu sei Un muro Perché Eh io son Morto Io son Morto Vaffanculo C'è Guarda Fare In realtà Ce la Possiamo Fare In realtà Dobbiamo uccidere Sto ladro Di merda Di merda Ne ho capito Ma è vero Che tra L'altro I nemici A sta difficoltà C'hanno anche La metà Del tempo Di ricarica Ma sto Ma sto stronzo Ma sto stronzo Li rifulla Raga sto stronzo Li rifulla Eh raga Eh tocca Aspetta L'unico modo Per vincerla Questa E' E' Menare lui Neanche Boni 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 Tattica antica Correre via Minchia Fare due danni Fare due danni No però Fare due danni No dai Per questo Adesso mi attacca Alle spalle E' la fine Curati Lo ammazziamo Domani Lo ammazziamo No dai Ho capito Ricarichiamo Raga Eh raga Tocca ricaricare Eh se Si rifulla Aveline Fa dieci danni Se sto stronzo Si rifulla Pure la fine Ragazzi Se sto stronzo Si rifulla È la fine Non No I maghi Si sono arresi Cerchiamo Di calmarci Siete liberi Ora Mi avete fatto Girare le palle In un modo No Barry Che se io ti metto Da una parte Tu devi stare Lì Allora Pietrifica Quello stronzo Tutti insieme Su quello Cioè vedete Quanto cazzo Sono resistenti Ok Mary Lancia una bomba Qua È morto Varric Che cazzo Ha shottato Varric Cosa ha shottato Varric Ogni tanto C'è roba Che shotta Mi sa Ma perché è vero Che come tutti i boss Ci avrà quella Mossa di merda Ci avrà sicuro Quella mossa di merda Ragazzi Aveline Io ti ho detto Di venirmi a dare Una mano qui Non te ne andare Affanculo È stata shottata Cosa Sì perché c'è Il cacciatore Templare Dio Cristo Che fastidio Grazie Corvo Dio Cristo Che fastidio Bisogna eliminarlo Sto stronzo Le Eccolo qua Il cacciatore Eh se Ne è andata Affanculo Ovviamente Il merda Che cazzo Sta tirando Quel merdone Laggiù Cos'era Quella roba Ah perché Ser Carras Sicuramente qualcosa Per ridurti Quanto ti curi Madonna Vieni qua No Qualcosa Che ti rallenta Come l'hai evitato Mo devo saperlo Però Dettagli Eh vabbè Li cura Madò Mi son preso Un pizzettone Nucleare A random Mocca Raga Raga Ma i danni Ma i danni Ma ho capito Ma i danni Maddio Madonna Ma che cazzo Sto vedendo E tanto Aveline Da sola Non ce la fa Vabbè Ci abbiamo L'altra parte Della live Cazzo Io sta fight Non me ne frega Niente Non glieli Lascio i maghi I maghi Si sono Arresi Perciamo di Calmarci Siete liberi Porca Puttana Ragazzi Che cazzo Di cancro Ma perché Continuano a spawnare Templari O Pias Fuck Ovunque E allora Ok Piano Piano Ci proviamo Cioè Dio Cristo Guarda che Noi siamo forti Raga Cioè Facciamo male Questi invece Non gliene sbatte Un ciolo Di laveline Come va Con sto arciere Fatto di adamanti Ovviamente Sia mai Buonasera Kyle Come stai Bello Eh piano piano Lo ucciderà Molto piano Ma perché poi Ci sta Questo Lo sapete pure Perché sono duri Come la madonna Perché sono stronzo Dal centro Costantemente Li cura Li cura Costantemente Quindi se non c'avete Abbastanza damage output Ci rifullano Problemi col vicino Eh No È crashato Per un attimo Che tutto twitch Prima Dio Muori Dio madonna Dell'arciere L'ho shottato Dio Ma non erano Ma non erano In range Dio cristo Di nuovo Eh no Devo ricaricarlo Ci proviamo Cioè vedete Aveline È un'ora Che lo sta Menando È più o meno 20 minuti Che proviamo A fare Questa cosa Kyle Ok Eh no Ma perché Tanto è un muro Aimlock Perché quello Essendo che è il boss È un muro Non lo buttiamo giù È tipo Durissimo Poi moce Tanto rimoriamo Ci proviamo Però È da davanti Un merda Cioè guardate Questo è un assassino Questo è un assassino Ma quanta vita Deve avere Sto stronzo Eh Ruka è morta Sicuro Eh sì È morta Ruka Eh tocca tanto Aveline da sola Non ce la fa Tanto Aveline da sola Non ce la fa E andiamo Eh sì Kyle Questo si chiama Essere un guerriero Ma a quanto pare Non basta manco Per il cazzo Non basta Non basta manco Per il ca I maghi I maghi si sono Arresi Cerchiamo di Calmarci Siete liberi Eh Allora Tutti mettiamo Il veleno Sulle nostre armi Perché ci è utile Tutti il veleno Devo Perché io non voglio Fare il cancro Perché me la stanno Attirà raga Me la stanno Attirà per quello Allora proviamo Sta tecnica Tutti su Sir Carras Per quanto Possa essere utile Granata Altro che Veleno Granata Usiamo le granate Granata Riesca a vederci Qualche cazzo Granata Cioè vedete Si è preso Tutti quei danni Si è preso Tutti quei danni Lo stronzo Poi Non si fa respirare Non lo pietrificare Anzi fai questa cosa Varric Fagli Questo No dovete Continuare a mirare Il suo stronzo Non so se l'avete capito Dovete continuare A menare Il merda Ma vanno Sta colando Il naso Fortissimo Cicchetto Cicchetto Ne sei rifullato Ormai è così Raga No non dovevi Vietrificarlo Cristo Il dio Perché l'hai Vietrificato Dov'è Dio madonna Buonanotte Skelle Che se fosse stata con noi Bella Dormi bene Varric Tu non so se l'hai capito Ti devi Focussare Su sto Stronzo Vi dovete Mi dovete Focussare Tutti Sul Merda Lì E tu Anzi devi dare La cosa Da Aveline Prima che arriva L'assassino Perché l'assassino Sarà il secondo boss Da doversi fare Cura Eccolo qua È arrivato l'assassino Ragazzi Questo deve morire Questo deve morire Perché è arrivato L'assassino Anche se Varric Potrebbe essere Molto utile Prima che il Merda Si cura Uccidetelo Finitelo Dio Cristo Finitelo Ok L'assassino Sta per Shottare Qualcuno E sicuramente Sarà uno Dei nostri Ha shottato Merrill Ovviamente Ha shottato Merrill Ovviamente Eh vabbè Con un colpo Ha shottato Varric Ma Vattene Affanculo Ma che Cazzo Di danni Gli avete Dovuto Mettere Ma Dio Cristo Dai Che Cazzo Di danni Gli hanno Dovuto Mettere A sto Stronzo Mandatevene Affanculo Va Sbrigati Che stai Per essere Shottato Dall'assassino Eh pun Madonna Guarda Che cazzo Di E raga Ruga è morta Cosa dovrei fare Io davanti a sta Cosa Eh Però Già è più Fattibile Adesso Rispetto a Prima Già è più Fattibile Non è vero Non lo so Kyle Quanto fa Sto Stronzo Non ne ho Idea Non lo voglio Sapere Allora Chi è che C'ha Meno vita Eh Non ce l'ho E parte che va Troppo veloce Perché Avendoci la metà Del tempo Di ricarica Già Sti Stronzi Saranno Saranno Veloci Come la Merda Ragazzi Sono già Veloci Come la Merda Eh Ho capito Di che Cazzo Sei fatto Aspetta Aspetta Allora No Dai Era un pixel Dentro Vaffanculo Sì Posizione Di due personaggi In modo Tattico Davanti a uno Davanti a uno Stat block Voglio sapere Dov'è la Tattica Però Lasciamo Perdere Lasciamo Perdere Dio Cristo Dio Cristo I maghi Si sono Arresi Cerchiamo Di Calmarci Dove No Siete Liberi Allora Ce ne andiamo Tutti Laggiù Per favore Tutti Qua Giù Ci Aggruppiamo Tutti Insieme Vediamo Vediamo se Possiamo Fare Delle Piccole Porcate Ma non Credo Sì Esatto C'è pure Quello Il fatto Che non Posso Scappare Chissà Dove Giustamente Merrill tu ti devi Allora Merrill tu ti devi Togliere Dal Cazzo Sta Cazzo Di Robba Perché Non la Vuoi Spammare A Random Tu ti devi Tenere Lontana Dai Nemici Eh Se va male Si Se va male Si passa Un attimo Difficile Di Saliamo Però Questa È Stronza Varic È stato Shotato Da Gita Ma Sta Laggiù Questa Sarà La prima Volta In cui Abbozziamo Ragazzi Per Forza No Neanche Così Neanche Così Si Fa Neanche Con Leroy Jenkins E Ecco Assi Ma Chi è Il Sangue Siamo Di Calmarci Siete Liberi Eh Miseraga Tocca davvero Eh Abbassiamola Un attimo Difficile Vediamo Quanto Cambia Ma Non Saprei Dirvi Madonna Allora I danni Molto Per Carità Del Cielo Porca Puttana Se i danni Molto Ad incubo L'hanno Proprio Ad incubo Urlano Stat Block Si Stronzi Incredibile Già Arrivato Il Cacciatore Madonna Così Presto Cioè Così Presto Sarà Che Sono Morti Tutti Come Degli Stronzi Subito Probabilmente Lì Ma Dici Che Fa Spona Pure De Meno Non Pensavo Cioè Guardate Quanta Vita In Meno Dio Mio Non Ho capito Ma Fa Così No Tutti Hanno Usato La Propria Granata Ancora No Ah beh E' vero Posso farla Questa cosa Perché non Siamo ad incubo Perché non Siamo ad incubo Posso Posso Ultare Posso usare Le mie mosse Normalmente Questo Non è Ultare Questa Mi sento Sporco Questa Mi sento Sporco Cosa farete Ora Tarsk O Trask Ben tornato Star Rialziamola Di nuovo Questa Questa Veramente Questa è stata L'apoteosi Ero scompà Purtroppo Si star Era Crascicchiato Tutto Lama Del canto E della gloria Di maglia Dei cacciatori Di draghi E mi sento Sporco Mi sento Sporco Però Cazzarola Ma non può Esserci Andiamocene a casa Non può Esserci Sta cosa Qua veramente Stat block Brutalmente Ma Cioè Questa Non si tratta Neanche Di essere Veri maghi Della strategia Cioè Qua essere Proprio Pezzi Di merda E basta Qua è proprio Essere Pezzi Di merda Perché Cioè Se questo Fusse un gioco Dove La strategia Conta Veramente Qualcosa Innanzitutto I nemici Non devono Livellare Con il mio Livello Ma devono Avere Un tot E una Lettera Cara Beta Mi piace molto Che non sia Successo A Tamra Credo che La sua famiglia Sia fuggita Redcliffe Ma non sono Riuscita A localizzarla Ormai ho perso Ogni Speranza Servirebbe Un miracolo Continuo A ricerche So che Tamra Era una vostra Cara amica A Tamra La conosciamo Mi sa Vi scriverò Non appena Saprò qualcosa Spero che La vostra famiglia Si trovi Bene a Kirk Vi pego Di poggi Di miei saluti A vostra amata Continuo a pregare Per tutti Cordialmente Sorella Ursula Va bene Salviamo Dove Qui Eh lo so Che l'infamata Eppure Ma perché Cioè Come fa A esserci Un abisso Del genere Perché lì Il fatto è Che non è Cioè Come fai A superare Quella roba Perché con il livello Io no Perché il livello Non c'entra Un cazzo Perché se io sto Al Io in quello scontro Potevo stare Al 20 Come al 10 Ehm Si adattavano Si adattavano Quindi Io quello scontro Come lo affronto Perché Perché L'unica cosa Non ne continuano Tutti fanno Uno sbrego Di male Prendono Uno sbrego In meno Di danni Poi ci sta Lo stronzo Al centro Che Ogni tanto Fa la skill Da comandante Per shottarne uno Fa la skill Per curare Costantemente Tutti Cioè La che tattica Deve esserci Se non Che non sia Uno stat block Perché a me La cosa del Gestirmi Il fuoco amico Ragazzi Mi piace tantissimo Ma se deve essere Questo parto qui Perché questo Non è divertimento Questa non è tattica Questa è Un parto Cioè Averi Stare al centro E ritrovarsi Che spawnano A random I nemici Mentre tutto Ti shotta Tu devi stare attento Al millimetro In uno spazio Tra l'altro Così piccolo A dove metti La granata Dove metti La palla di fuoco E compagnia Che fanno pure Uno sbrego Di danni Eh Io adesso Vedo Se riesco a trovare Una mod Per Implementare Il friendly fire Anche nelle altre cose E ce lo giochiamo A difficile No no A normale Non ci scendiamo E Probabilmente pure Ce lo continueremo Ad incubo Poi guardate Il trade Two of the devil cartel No è tardi Non mi ci metto Adesso Corve È tardi È fatta L'ora e mezza Tra l'altro Abbiamo fatto Ancora più tardi Del solito E Perché Per adesso L'incubo Mi sa Semplicemente Di una gatta Sui coglioni L'incubo Per adesso Che non sia Per Il friendly fire È una gatta Sui coglioni E basta Perché Ogni Singolo Coso Nemico È un muro Perché Questa è la seconda Volta che ci succede Perché c'era successo Anche con i cunari Perché anche dai cunari Ce la sta Bastardata così Perché pure lì Tutti immuni al fulmine Il tizio Spawn Un mago random Che butta in mezzo Un'esplosione Si tipizza via Perché tanto È sempre quella la cosa E il fatto che C'è questo 50% Di cooldown extra Che Rende broken il gioco Come i maghi Che fanno un incantesimo E poi si rinfilano Nello scudo E creano quei loop Lì non è Per i maestri Della tattica È per le rotture Di coglioni E Non mi spinge Neanche Ad entrare Nel roleplay Di portarmi qualcun altro Perché lì Se avessimo avuto Bethany Con le sue magie Per ghiacciare Per congelare Per fare le tempeste Di fuoco Per fare un po' Di AOE Sarebbe stato Molto eh Meglio Soprattutto con Bethany Che può curare E compagnia Così diventa Soltanto Stai attento Che sono spawnati Altri Criciti infiniti Quindi mo vedo Se riesco a trovare Una mod per il friendly Fare gli edifici C'è un giochiamo edifici Altrimenti vediamo Un attimo Se si continua Ad incubo No Corvo Se lo vediamo Domani sera Proprio Poi tra l'altro Ti fanno 300 danni Perché ogni tanto L'abbiamo visto Più e più volte Tipo il tizio De Gunari Che ha fatto L'attacco da Lair E ha shottato Aveline L'attacco da Lair Ha shottato Aveline In full tank Mode Buildata C'è Oh Oppure Oppure l'assassino Che tira Sto 800 Di Di Botta E arriva subito In furtività Ma che cazzo Vuol dire Non è Sì È un incubo È un incubo Anche quello Sì Kyle Cioè Mo vedo Mo vedo Perché stasera Cioè Si era ripresentato Con i Gunari Vediamo Perché Non mi Cioè Io Come mi avete scoperto Nelle varie live Nei vari mesi Io non sono una persona Che disdegna la difficoltà A me piace la difficoltà Ma mi piace quella difficoltà Che c'ha un senso Cioè Che non siano Orde dei nemici Uppati a sfac Dove Narciere Minion Del cazzo È duro Come il boss Cioè Se ogni unità Che io incontro In campo È un muro Si va a perdere La tattica Non è tattica Perché è una tattica Al contrario È una tattica Che sì Ci sta il friendify Anche per gli avversari Ma io devo centellinarmi L'ira di Cristo Mentre gli avversari Ci hanno Su un muro Perché ricordiamo Che Qua Da quel che ho capito Varia in base alla barra Più la barra è lunga E più viene calcolato Tipo boss Cioè Diventa normale Special boss Ok quindi Variano Le difese I danni che si prendono Quindi si vanno a fare Quelle combo Dove Qua magari Non ci hanno neanche pensato Hanno messo Quattro cavalli Quattro arcieri templari In Barra media Quindi ci hanno Ancora più difesa Cioè Non ci hanno proprio Non l'hanno Proprio bilanciato Perché tutte le cose Del Ti possono rubare Le pozze Sotto al 10% Della vita Tu cominci a sanguinare E muori distanguato Perché ti hanno fatto Troppi danni E le pozze limitate Tutta quella branca lì È fichissima Però hanno sgravato Con tutto il resto Hanno sgravato Con le difese Con la vita Con i danni Non è che c'è un pensiero L'hanno fatto Sullo slide L'hanno maxato Hanno detto Affangulo Ci pensate voi È un conto è la sfida Un conto è rompersi i coglioni Quindi ma adesso vedrò Ma comunque Io vi ringrazio Per la compagnia Perdonate per questi ultimi 40 minuti di parto Mischiati a Crash Che tra l'altro Quando lo vediamo anche No vabbè me lo vedrò Me lo trovo da solo Ma sono abbastanza sicuro Che sia successo Qualche infarto con Twitch Perché non mi faceva Vedere online Però vabbè Mi ringrazio sempre Noi ci vediamo domani sera Con speriamo L'ultima parte Del primo New Game Plus Di Resident Evil 4 Remake E niente Ricordate sempre Corju Gang Fa Bang Bang Bellissimi Grazie sempre di tutto Buonanotte E grazie anche ai lurker Notte belle Notte stare Notte Kyle Grazie a tutti